Per questa mattina abbiamo un po' di cambiamenti per il programma, quindi vi riassumo brevemente. Aprirà Alessandra Chemon, dicendo una piccola introduzione, un vecchio gruppo che hanno pensato all'organizzazione di questa giornata, di queste giornate. Dopodiché per quanto riguarda la produzione di Colapietra passerà alla fine della mattinata, le conclusioni del pomeriggio di Franco Arminio ci saranno lo stesso a conclusione della mattinata, mentre per le istituzioni il sindaco purtroppo non fa in tempo a raggiungerci, non ci sarà e neanche l'assessore di Stefano. Quindi è lo stesso, purtroppo non potrà essere con noi, Michele Brunello ha avuto un piccolo problema e quindi a questo punto passerei la parola a Alessandra Chemonio. Io vi ricordo che per i relatori ci saranno 15 minuti a disposizione, io sarò un po'... ...seglie istituzioni, quindi l'assessore... Io quando caccio da questo e mi siedo con gli altri che mi vedono, sono presa la palletta. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti, grazie, sono qua. Io parlo a nome degli organizzatori di fotografia, che è un'iniziativa autoprodotta e autosimilizzata, nata dall'idea di un'associazione che ha lavorato in Africa tra il 2009-2010, facendo una prima operazione di non loco, quindi non degli autori, dei fotografi autori che cercano di costruire un gruppo di discussione per trovare un metodo di lavoro che possa restituire un'immagine di una città che ha perso il concetto. a partire dall'idea che esisteva una enorme risposta tra quello che noi vedevamo e quello che noi conoscevamo. L'idea di raccontare l'acqua del cinema è stata appunto analizzata da fuorivista a partire da quelle che potevano essere le categorie, così rappresentate una città. E quindi noi abbiamo deciso di fare l'ultimo lavoro di mappatura, mappando dello stesso modo con delle modalità che Rolandi, che non c'è tanto bene, di quanto frutto di una compagna importantissima che è la città. La città è la città. La città è la città. Ma meno visibile la futura storia. E poi interrogandoci, discutendo molto su che cosa poteva rappresentare questa città e abbiamo pensato di entrare di buone parte degli spazi pubblici per raccontare che come ha detto Nicoletta Baldi, essere orfan di una città. Tutto questo l'abbiamo fatto senza che nessuno chiamasse le sue fotografie. Tutta è stata un'azione un po' particolare. Le sue fotografie di Sismissiti sono di fuori vista. Lo ha fatto io, lo ha fatto Roberto Sartor, che è il cuore dell'organizzazione di tutto questo. che vedete, le hanno fatti molti anni, infatti sono qui, ma un'idea di fare un passo indietro perché l'abbiamo realizzato. Dall'invito di Salvatore Sartis a portare Sismissiti all'Aquila, cioè di più comitanza con l'organizzazione dell'Aquila Cinque dell'Aquila, e noi abbiamo pensato che gli Aquilani in tutto hanno bisogno, tranne anche di vedere le immagini di terre, di nuove terremotà. E abbiamo pensato invece di rivolgere questo invito al mondo della fotografia italiana, che è stato generosissimo e ha dimostrato, che è stato dimostrando, che anche se nessuna tra le istituzioni ritiene utile costruire una memoria produttiva di quanto è successo, comunque pagandosi le spendi e provando a discutere insieme su come fare un lavoro, che sia il lavoro di un simbolo, che sia un lavoro coordinato da persone che si confrontano sul metodo, si può fare, si vuole fare, anche per dimostrare che forse chi ha dedicato la sua vita a cercare di vedere, quindi ad apprendere il modo in cui guardare le cose, in un qualche modo può offrire uno strumento che ha una sua attività. ed è questo il motivo per cui siamo qui. Siamo qui anche perché, come tutti i cittadini che sono qui, abbiamo capito che ci sono dei problemi sistemici che non possono essere risolti in modo individuale e che quindi vanno risolti sistemicamente. Per questo motivo abbiamo, come prima azione in una sua rivista, costruito questo progetto insieme all'associazione insegnante, l'associazione aquilana, che con grande forza e grande coraggio ha aperto all'Aquila, a sue spese, un luogo che si trova nella fotografia, che è la sala della fotografia, che però purtroppo ha dovuto chiudere, ed ha dovuto chiudere nel silenzio più generale, nell'indifferenza più generale, ha dovuto chiudere perché non aveva più i soldi per pagare la situazione. e io spero che il residuo di istituzione che c'è qui possa cogliere anche tutta la potenzialità e la forza di questo lavoro per pensare di cercare uno spazio in cui l'associazione segni possa continuare solo. Io penso che quello che noi stiamo facendo è sperimentale, che come tutte le cose sperimentali ha molti rischi, che come tutte le cose che hanno molti rischi è fondamentale per vivere. Quindi penso che siamo più tutti per questo motivo. Tra i vischi che abbiamo c'è quello di non sapere che cosa diventerà questa voce e forse potremmo provare a sviluppare da qui anche un ragionamento in questa direzione cioè capire che cosa può diventare il lavoro di 60 fotografi che lavorano insieme che uniscono il loro sguardo allo sguardo delle persone che abitano questo luogo che cosa può diventare e in che modo può diventare veramente utile. Noi come associazioni abbiamo lanciato un'ipotesi che vorremmo proporre qui all'anno delle istituzioni, se purtroppo anche questa volta con il Ministro Smith è un po' un interlocutore assente e ringrazio molto l'assessore Pedrini di essere qui a testimoniare la presenza delle istituzioni che peraltro ci manda. lanciamo questa palla, la lanciamo in aria, speriamo che qualcuno la raccoglia. Dicono che all'Aquila parcheranno moltissimi cantieri, si parla di 400 cantieri, forse di più penso che l'ingegnere ma io lo faccio con più precisi. e credo che questo processo di trasformazione della città potrebbe davvero entrare a far parte di un progetto di memoria collettiva di quello che l'Aquila è oggi e di quello che l'Aquila è vero. E che questa formula, questa sinergia che noi stiamo cercando di sperimentare qui potrebbe essere portata avanti in modo che le competenze possano essere portate a l'Aquila come patrimonio e che queste relazioni che si stanno distraugando tra i fotografi che vengono da tutta Italia facendo anche i 12 ore di treno, per l'onore di non offrire questo lavoro all'Aquila possa entrare a far parte di una competenza che diventa propria degli fotografi a diranno e che potrebbe costruire il raccoglio delle trasformazioni magari con un'istituzione che raccoglia questa palla che magari riesca a trovare i soldi per pagare gli studenti di altro magari possa dare un minimo di visibilità all'anno che viene offerto a partire dal presupposto che per chiunque abbia girato anche poco per l'Aquila e si sia trovato inevitabilmente ad attraversare una rotonda risulta chiaro che regalare qualcosa all'Aquila che non è stato richiesto e che non è condiviso forse non è utile. Grazie. Passo la parola all'assessore Pellini che è l'assessore alla partecipazione del Comune di Tattina. Buongiorno a tutti e a tutti. Vi parlo del residuo delle istituzioni come è stato detto la mia presenza da Alessandra. In questi casi si ringrazia sempre chi porta avanti un'iniziativa meritoria come questa di Monofotografia. io voglio brevemente raccontarvi la genesi che ha accompagnato questi giorni di preparazione. Quando ci è stato proposto, l'ufficio della partecipazione, di mettere su questa iniziativa, di aiutare a mettere su questa iniziativa, da parte mia c'è stato subito grosso entusiasmo perché ho intravisto, e questo chiaramente andrà verificato proprio per il carattere sperimentale dell'iniziativa, ho intravisto subito comunque le potenzialità di un'iniziativa del genere che per la prima volta forse, qui chiaramente lo sappiamo e se non lo sappiamo concretamente lo possiamo anche intuire, si sono alternate moltissime esperienze di fotografia, di fotografi che sono venuti che hanno potuto riprendere la nostra città, fotografarla, fissarla rispetto a quello che era accaduto il 6 aprile di 4 anni fa. Però questa volta il punto di vista è centrale e il punto di vista, che è un punto di vista partecipato, come veniva ricordato, mette al centro le competenze, il know-how dei fotografi, dei tanti fotografi che si sono messi a disposizione per questa iniziativa con l'occhio e con il vissuto dei cittadini anguilani che si sono offerti e intendono fare da guida. Quindi questo incontro, questa bellissima sinergia che si viene a creare dagli esseri, è intanto riscontato perché chiaramente essendo un progetto sperimentale ed essendo comunque l'incontro tra competenze e punti di vista diversi, potrà avere ogni esito, potrà venire fuori qualunque cosa e questo dal mio punto di vista già è qualcosa di molto positivo perché scompaggina un po' la narrazione che c'è stata negli ultimi anni ed è proprio questo il punto centrale. Alessandra lo ricordava, costruire una memoria condivisa ma anche contribuire ad una nuova narrazione. Siamo in un tempo sufficientemente lontano dal terremoto per dire che molte cose sono cambiate anche rispetto a quel giorno. In questi giorni vedete molte demolizioni, la ricostruzione che nel centro storico seppur ancora tipicamente è partita, ci sono circa 60 cantieri, se ne apriranno ancora. Tutto questo, mettere ancora una volta l'obiettivo sulla nostra città ma in termini diversi, da mio punto di vista oltre che per la valenza dell'iniziativa è anche un qualcosa che può aiutare questa città nella proiezione che può darne all'esterno a far comprendere al meglio che l'Aquila è un patrimonio dell'umanità che a distanza di 4 anni e mezzo versa ancora nello stato che conosciamo e che forse i vari punti vista compongono qualcosa che appunto crei e costruiscono una nuova narrazione. Io ieri mentre pensavo a questa iniziativa ci siamo sentiti molte volte in questi giorni, anzi purtroppo la repentinità dell'organizzazione ha messo a nudo Alessandra Lozaro, Alberto, la difficoltà anche per l'amministrazione di dare una mano concreta con tutta la volontà di farlo e quindi il tutto si è svolto in un'organizzazione di tipo volontaristico che per forza di cose ha scontato anche delle mancanze, delle lacune. Però diciamo che il solpo è tracciato, la strada è tracciata e comunque abbiamo la possibilità di ripeterla, di integrarla, speriamo che appunto questo progetto sperimentale ci conduca a qualcosa che anche nei prossimi anni si possa ripetere e integrare. Dicevo, ieri mentre pensavo a questa iniziativa mi veniva in mente, io sono da profano, nel senso mi piace fare foto ma chiaramente dal mio punto di vista è un punto di vista direttantistico, però pensavo al potere della foto che ha il potere appunto quello di cogliere e di fissare un momento e mi viene in mente di contrapporto alla velocità invece dei nostri giorni, del nostro mondo contemporaneo, dove tutte le informazioni sono estremamente veloci, dove tutto viene aggiornato in tempo reale, social network, internet, quindi tutto entra in un tritacane che macina ogni giorno notizie, informazioni e quant'altro. La fotografia invece ha questo potere di fissare l'immagine, di fissare un momento, che ferma anche una riflessione, che invita anche ad una riflessione, perché quando guardiamo una fotografia accogliamo delle cose che magari nel momento che in un video o nell'esperienza pratica non riusciamo a cogliere. E questa è una grande cosa perché credo che scomponga anche l'univocità della realtà, no? Mi pare che mi viene in mente Chirandello, no? Il suo onestone del centomila e il personaggio scopre un giorno di D'Angelo Moscatta che guardandosi allo spettro sollecitato dalla moglie nota un piccolo difetto nel naso che non l'aveva mai notato. E quindi pensando se una persona ha notato questa cosa, centomila persone mi vedranno in modo diverso. Ecco, tutti questi punti di vista che si atterneranno in questi giorni potranno cogliere le centomila visioni della città che magari sono sfuggite rispetto ad una immagine istituzionale, immagine della prefettura, immagini che si sono alternate in questi anni ma hanno lasciato sullo sfondo proprio le visioni particolari, i colpi d'occhio particolari, quello che ciascuno di noi nel suo vissuto precedente ha un occhio più affinato nel cogliere. Questa iniziativa sono sicuro che riuscirà con il punto di vista partecipativo delle persone che faranno la guida a cogliere tanti tanti elementi e tanti squarci, tanti scorci, tanti elementi che sono sfuggiti in questi anni e che quindi proiettano la città verso un qualcosa che parli di sé anche per il futuro. Se voi potete riflettere anche per esempio in che cosa è diventata la rotatoria, faccio un esempio per gli abilani, la rotatoria intorno a Piale Corrato 4 dove l'abbattimento di un edificio ha aperto un mondo, c'era un edificio orrendo e adesso è diventata una piazza praticamente, una rotatoria è diventata una piazza cambiando completamente la conformazione di quel luogo. Quindi oggi non siamo più al 6 aprile o ai vestiti immediatamente successivi, siamo ad un'altra fase, se la città sta cambiando, in bene o in male dovremmo valutarlo ma sarà comunque un portato di quello che ci lasceranno questi anni, però questa iniziativa può servire anche a questo, può servire a dare un'altra possibilità, a dare un'altra strada alla ricostruzione che ci sarà. Quindi io sono doppiamente grato a questa iniziativa, mi dispiace ovviamente che non ci sono il sindaco che a fine settimana normalmente è impegnato nel suo lavoro all'ospedale e anche l'assessore di Stato non so per quale regione non è presente, però l'importante dell'iniziativa non è né la presenza delle istituzioni né il fatto che portino un saluto, l'amministrazione c'è, la prossima volta magari riusciremo a dare un contributo più fattivo, ma credo che di fronte, con questo voglio chiudere, di fronte a quello che è avvenuto, io adesso è un po' di tempo che cerco di lasciare da parte la tragedia, ricordo anche l'essicale del Siavria, dobbiamo andare oltre che parlarne in termini diversi, però credo che i punti di vista diversi che ci possono essere in questa città siano anche punti di vista non omologati. Nel film, non so se qualcuno di voi si ricorda il film 11 settembre dove c'erano diversi cortometraggi, ebbene, rispetto al dramma dell'Equintalur del 12 settembre, nel cortometraggio di Sean Penn si vedeva come anche un disastro come quello dell'attacco alle torri gemelle poteva diventare un'opportunità, cioè lì c'era un anziano vedo che viveva in un alloggio vicino alle torri gemelle e non gli arrivava mai il sole, aveva perso la moglie con cui parlava tutti i giorni, aveva questa piantina che aveva preso come altre regole la moglie e quando appunto che non prendeva mai il sole, quindi era inevitabilmente sempre non regogliosa, con l'abbattimento delle torri gemelle gli arrivano provvisamente il sole dentro casa, quindi questa pianta aveva un sussulto di vita. Ebbene, anche di fronte, non voglio essere blasfemo chiaramente su questa cosa, questo serve per dire nel mio discorso che anche la peggiore delle tragedie, considerata da un altro punto di vista, può rappresentare un'opportunità. Io mi auguro che i punti di vista che divergeranno da questa bellissima iniziativa possano servire a tutti noi, non solo nella costruzione di una nuova narrazione, ma anche a divenziare dei punti di vista che possono essere anche paradossalmente nuovi e interessanti rispetto a quello che abbiamo vissuto. Grazie. Faccio la parola a Luciano Marchetti, già vice commissario dei tempi culturali, con una presentazione d'articolo che possette mai per i suoi posti della Costituzione. Grazie. Beh, io direi di portare a questa situazione di non valutazione. Inizioni passate. Io sono interessato a questa cosa perché, tutto sommato, noi viviamo in un Paese che ha una capacità eccezionale, che è quella di non fare mai tesoro di quello che è successo niente. Ogni volta che succede qualcosa, che succede qualcosa, si riparte da zero. Tutto ciò che è accaduto precedentemente non viene considerato. Quindi, questa tentativa di leggere una realtà e lasciare la documentazione secondo me è un elemento importante. L'Angela è una situazione particolare perché, rispetto al resto, agli altri eventi che c'è in Italia, ora, nel primo caso, dopo Messina, in un centro di rami di pensioni, con più di rami già. Però, se noi partiamo al fiume, al comportamento al fiume, all'Ungria, a Marche, quello che si è fatto allora, quello che si è fatto in Vespini, quello che si è fatto attore, voi vedete che ogni volta, sia sotto il profilo normativo, sia sotto il profilo operativo, si è ripartiti ricominciando da capo. Pensate a questo, no? In Umbriamonte, ma anche in Acquina e in Marco Renzi, gli sfollati sono stati messi nelle tende. Quindi, fatte le organizzazioni provvisorie, sistemate i campi sportivi, questo è il palazzo per i fiumi, e sempre tutto pari i pali dell'Umbriamonte. Poi sono arrivate le baracche di legno, e si è fatta l'urbanizzazione delle baracche di legno, vicino al campo sportivo, preutilizzato per i fiumi. E dopo dieci anni, il tutto è stato appallonato e si è ripallonato in una casa. Allora, in realtà, si è fatto un procedimento diverso, si è fatto una cultura fissa, benissimo. Ma il criterio con cui questa spina di nuovi centri, nuovi piccoli centri, è stato quello delle baracche di legno. si sono messi dei gruppi di edifici, secondo una ipotetica spina di fondo valle, che era semplicemente quella che fosse ridere più facilmente dalle strade che c'erano, delle strade che c'erano, senza ragionare sul fatto che, per esempio, quella rappresenta un insediamento edilizio di 20 mila all'ora, che caratterizzerà fortemente questo derivato del futuro. E quindi forse valeva la pena perderci qualche giorno di più, ma fare un discorso di bontanistro più dettagliato. lo stesso discorso vale per il criterio circostante. Io avevo un compito perviso che era quello di riflettere i monumenti, quindi tutto sommato il mio compito era successo, però se voi pensate, le frazioni di questa città. Cosa è rimasto delle tracce di oggi? La chiesa, perché l'hanno finanziata i tedeschi e perché va interlata subito, ma subito la parte. San Gregorio, neanche la chiesa, cioè probabilmente avere e utilizzare queste con esperienze per il futuro. Significa capire poi come comportarsi la prossima volta. E tutto sommato qui abbiamo fatto delle invenzioni, degli studi diversi, eccetera, per cui vedete, riguardo nel centro forico, vedete un sistema di messa in sicurezza che non ha paragone con quello che sta utilizzato negli altri eventi, però, ed è frutto del fatto che bene o male, da lunga, questa cosa si è sedimentata. Sia come Ministero pericoltorale, sia come i suoi fuori, insomma, quelli che hanno operato queste cose. Il Ministero ha dato soltanto la progettazione di questo caso. Quindi, rappresentano queste strutture un elemento di prosecuzione e di sedimentazione di quello che c'è stato. Mentre, per quanto riguarda questi altri tipi di intervento, non c'è stata una razionalizzazione di quello che è avvenuto prima e di quello che prima non funzionava. Certo, noi siamo opposti alle condizioni che in Italia sono state fatte in maniera diffusa. Ci siamo opposti a interventi violenti sul territorio, ma poi, alla fine, o le baracche, o le case in Berlusconi, o le map, queste cose non devono essere fatte, perché la gente è con le baracche per rimanere a vivere. E qui è mancata la riflessione sulla scelta di come. Io spero che questa vostra indagine ci dia anche il senso di poter capire, la prossima volta, come comportarci. Intanto, la prossima volta ci sarà. Io ho fatto mai 40 anni di evoluzione, quindi mi sono fatto in Giavoli Fiumi, quindi fatevi conto di quanti terremoti ho affrontato in quegli parenti. E so che ce ne saranno altri, perché c'è una frequenza abbastanza. Speriamo che non c'è sino altri che coinvolga, in maniera così tragica, una città di queste dimensioni, però il territorio, il territorio, il territorio, il territorio, il territorio, il territorio, il giornale, sono eventi abbastanza. Quindi riuscire a capire come comportarsi nel futuro può essere un'utile sperimentazione per i prossimi. di questa nostra visione del territorio, come è stato in realtà trasformato, in parte al terremoto, ma in parte dalle scelte che sono poi fatte dopo. E' altra struttura. Io penso che la ricostruzione non è una gara, per cui se si arriva più, si è stati più bravi. Il Friuli ci ha messo 15 anni. Io personalmente ho partecipato alla Commissione di Vittorio di Menzone, che è stato reinaugurato dopo più di 10 anni. Ma anche un grosso è stato fatto in 10 anni e il resto si sta finendo adesso. Quindi non è un premio al primo che arriva. Ci dovrebbe essere un premio a chi riesce a fare meglio. Ragionevolmente. Più razionalmente e più giusto della corsa. Questo sicuramente dovrebbe essere l'obiettivo. non certo il discorso di non assolutamente pensare che siamo facendo una corsa. Una corsa per arrivare i primi nella scelta di questa gara di ritorno alla capacità. Tra l'altro alcune scelte potrebbero essere più evitabili. Perché pensate a tutto ciò che viene fatto, che viene fatto, il centro storico dell'Aquila per la ricostruzione. Pensate a come questo centro storico potrebbe essere ripensato. perché il discorso di Gomera e Trovera è un discorso che al momento si vuol dire, ma quando si va a operare realmente. La copia di Gomera e Trovera è un'utopia che, come fotografa, vi dovreste conoscere molto meglio di me. la foto di un animale originale e la copia di una città di un animale città stessa. Quindi può essere il momento di pensare a come scelte organistiche, può essere il momento di ragionare su alcune decisioni che hanno messo nel passato e che vanno qui possono essere riviste. Quindi forse vale la pena di perdere qualche giorno o qualche mese ragionando su queste cose, piuttosto che bilanciassimo la forza a chi è arrivato. Grazie. 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 Allora, andiamo dalla parte della sessione della fotografia di tagge e scontri per via di Bratti. Passo la parola all'architetto Guido Incerti, da Firenze, con una presentazione dal titolo di terremoto ci salverà il luogo della futura memoria. Grazie. 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 Buongiorno. Si sente? Buongiorno. Buongiorno. Mi portano in voce. Ah, buongiorno. Non ho un problema. Io sono un po' colpito dall'intervento del professor Marchetta dottor Marchetti. perché mi fa strano che ancora oggi cominciamo appunto a parlare di non aver imparato dalle esperienze precedenti. Io è la prima volta che vengo all'Aquila e probabilmente non parlerò di discorsi legati pienamente al loro centro della fotografia. Parola più dell'idea della volontà di costruire un'operazione che vada prima della fotografia. Io andavo qui probabilmente solamente perché tipo due anni fa un Fest Arc a Perugia, venti giorni dopo il terremoto che aveva colpito l'Emilia Romagna e quindi un paio d'anni dopo quello che aveva colpito l'Aquila, mi ricordo che in quel Fest Arc c'erano archistar, grandi interventi di urbanisti, giornalisti di architettura, di fotografia, grandi fotografi, che parlavano per tre giorni continuativamente di architettura, città, urbanistica, operazioni di futuro e questo e quell'altro. Però è successo qualcosa per me di parimento drammatico che l'Aquila, cambia l'estensione ma l'equità dei danni è la stessa, se vuoi andare a Mirandola o andate a finale media è uguale, nel senso il paese è devastato tanto quanto l'Aquila è più piccolo e nessuno ne parlava. Era proprio silenzio totale, nessun problema, andiamo avanti, pensiamo ai Brick ma non pensiamo all'Emilia Romagna che era appena stata la discussione, e men che meno si parlava dell'Aquila. Io ho la fortuna di dirigere una rivista piccolina, bellina, simpatica, dell'Ordine degli Architetti di Firenze, della Fondazione di Firenze e con un'amica che era lì con me eravamo incazzatissimi. Eravamo veramente incazzati e dicevano no non è possibile, se non è possibile che Domus non dica niente, se non è possibile che Abitano non dica niente, se non è possibile che Casabella neanche si monga il problema. E decidiamo di fare un numero unico sulla questione del post terremoto e non solo, non solo il terremoto, perché non ci sono solo terremoti, ci sono alluvioni, ci sono smottamenti, c'è un po' di tutto. Tutte cose che poi spesso e volentieri hanno gli effetti che hanno perché non preventivati. Così si faceva prima, mi fa strano perché in 40 anni è successo di tutto e nessuno ne ha memoria. Non fa parte del nostro mondo di fare, ogni volta si parte da zero proprio perché la società nostra è fatta così, pensa così. C'è un concetto cinese che è un concetto del ma che pone in continuità, tempo, spazio e vita. Quindi se voi andate a vedere l'approccio cinese o l'approccio giapponese a questo tipo di cose è completamente differente, perché per loro la catastrofe è insita nella loro mentalità, sanno un po' capitare, non si pongono il problema, lo prendono come possibilità di fare prima vita. Tanto quanto è un qualcosa che gli amministratori, gli urbanisti, gli studenti, i professori dell'università dovrebbero immaginare. Un problema di questo tipo può diventare anche un'app di pianificazione urbana, un vetta un po' cruga, ma è così. Allora, noi decidiamo di fare questo numero e decidiamo di chiamarlo perché un terremoto ci salverà, proprio per riprendere un po' delle cose che abbiamo detto, queste cose qui. Ma siamo partiti da un assunto, cioè parlare dell'Aquila se ne ha già parlato, per parlare dell'Emilia Romagna se stavano cominciando a parlare, gli urbanisti hanno detto vabbè, anticipiamo il problema, immaginiamo che un terremoto distrugge a Firenze, cioè che rada al suolo il Rinascimento così come il mondo lo conosce. Cosa si fa? Gelo. Le istituzioni hanno avuto più il gelo, cioè quando mi hanno fatto questa domanda sono sbiancati. Non che non si faccia niente, perché si sta facendo, però come sempre sembra che la cosa non venga posta in considerazione, cioè non deve mai capitare, non capiterà. E io ho messo un po' se ne c'è il problema di cosa succede a Firenze se viene demolito in una notte la cupola di Brunelleschi. non solo, cioè perdiamo gli uffizi piuttosto che il compagno di Raffaello e tutto quanto quello che ne consegue. E da lì è nato lo sviluppo di questo numero, è nato lo sviluppo di questo numero per cercare di far capire o cercare di innanzitutto stimolare le istituzioni a apporsi la domanda. di Varisba, la legislazione c'è. La cosa che a me ha colpito facendo questo numero è che la legislazione, la ricerca scientifica, c'è tutto. Mancano i fondi, cioè noi volendo potremmo mettere in sicurezza il paese con un paio di 8 miliardi di euro, non proprio poco. Però nel senso, le conoscenze per poterlo fare ci sono. Manca la comunicazione di questa cosa. Manca, ed è un po' quello che mi pare che stia cercando di costruire il progetto con fotografia, no? Cioè, i fotografi lo costruiscono attraverso la progettazione e l'inserimento di un tavolo attraverso le immagini nella mente degli abitanti. Quello che noi stiamo cercando di fare, o cercheremo di fare, è di instillare questo tallo, questa idea di memoria, di futura, attraverso la progettazione. Di questo momento abbiamo parlato anche a un convegno, perché l'incazzatura è proseguita, no? Cioè, non è che ho fatto il numero e l'incazzatura sia passato. Io ho fatto il numero e ero proprio incazzato di prima, perché non è possibile essere scoperto tutte queste cose qui e non c'è niente uguale. E nulla, la cosa l'incazzatura è andata avanti, tanto che sempre attraverso la fondazione delle ordini ai petetti di Firenze, il comune di Ferrara, io insegno all'università di Ferrara, quindi ho fatto un mio rapporto privilegiato con un centro che è stato colpito relativamente, ma è stato colpito, con il comune di Ferrara, la provincia di Firenze e tutto abbiamo dedicato maggiornate di studi come questa appunto al tema della prevenzione. Abbiamo parlato dell'Aquila, sono venuto, è venuto qualcuno che oggi non c'è, però insomma abbiamo avuto un parterre abbastanza densi di persone e in quell'ambito lì abbiamo avanzato la proposta che insomma uno dei primi atti di prevenzione da poter fare è semplicemente riuscire a spingere le persone a preventivare il problema e quindi conseguenza intervenire sulle loro case, cosa che magari generalmente non si fa. E allora semplicemente la fondazione ha costruito un piccolo pacchetto di regole che poi è stato esposto in quell'occasione e abbiamo avuto un discreto ufficio stampo, apportunatamente, che è riuscito a lanciare molto bene la notizia e la sera c'era arrivata e l'ha fatto la news proprio dall'Ansa che il Vice Ministro Erasmo Deandis aveva recepito quello che noi avevamo detto durante quella giornata e quello che ci avevamo studiato tre mesi prima ed era riuscito a parlarne con il Ministro Luque e quello che è e nel famoso decreto del fare finalmente erano entrate sgrabi fiscali che decide di migliorare significativamente le proprie azioni. E la cosa che mi ha colpito sempre più e mi ha ancora fatto non mettere più l'incassatura è che non ci avevano pensato. Cioè, siamo dovuti arrivare noi a dirlo e in un certo livello di politica non ci aveva pensato. Questo non per essere contro... non voglio parlare contro il politico, voglio semplicemente parlare proprio della totale mancanza di conoscenza dell'idea di prevenzione ma di quello che dobbiamo essere consapevoli e di quello che possiamo tranquillamente fare. Quindi, niente, noi stiamo semplicemente lavorando su questo, sul provare a lavorare a costruire una consapevolezza di ciò. Un'altra cosa, la prima cosa su cui lavoreremo è semplicemente, anche lì, un'altra domanda che ho fatto in giro, se hai già fatto qualcosa a Ferrara, però tipo a Firenze, lavorando a Firenze, io ho cominciato a domandare in giro le persone se sanno dove sono i punti di raccolta. della città. A Firenze praticamente nessuno, primi gli amministratori, che sono quelli che come sempre dovrebbero dare esempio, sa veramente dove sono i punti di raccolta della città, che sono, come dire, io sono quelli personalmente poi individuato come il primo elemento. E niente, lavoreremo semplicemente per provare a costruire dei punti di raccolta ufficialmente riconoscibili e che possano probabilmente entrare nella memoria degli abitanti e con la speranza che se io passo davanti tutti i giorni un punto di raccolta riconoscibile, cosa che ho visto qui all'Aquila, la prima cosa che mi ha colpito quando sono arrivato all'Aquila e non c'erano mai stato, la prima cosa che mi ha colpito arrivando all'Aquila sono le indizioni colorate delle frecce che ti spiegano dove sono i vari punti di raccolta, cose che non avevo mai visto, la prima cosa che ho visto sono state quelle di più delle vendizioni che ho visto. E nelle città, a Firenze, non ci sono. E quindi, infatti, lavoreremo su questa cosa qui, ipotizzando che, almeno io che ci sono e con me che sta lavorando, antropologi, sociologi, fotografi, architetti, i panisti, non sono per me da solo, la possibilità che se un cittadino, giovane o vecchio, amministratore o semplice studente, passa tutti i giorni davanti a un luogo in cui c'è scritto qui è il luogo di raccolta in cui tu devi andare. Se succede qualcosa, indipendentemente da quello che succede, non mi interessa perché Firenze nel 66 ha avuto l'alluvione e quindi conseguenza di risondazione dell'arma che è stato uno degli elementi più importanti e più catastrofici. Come dire, se le persone cominciano forse piano piano, strillando goccia a goccia, la conoscenza che in quel luogo pubblico c'è un luogo di raccolta perché potrebbe succedere qualcosa e lì devono andare, forse l'intenzione è quella di costruire una piccola idea di prevenzione, di coscienza che vada oltre i volantini della protezione civile con Topolino che sono molto belli e sono molto simpatici. Topolino dice delle bellissime cose però non arriva da nessuna parte. E quindi niente, proveremo a fare questo e a non interrompere appunto quel flusso di cui si diceva prima. Cioè, cercheremo di capire se è possibile non far arrivare di volta in volta al punto zero e di partire da capo. Cioè, che lo spazio piano sia in continuità. Questo è quello che stiamo cercando di fare e per questo ringrazio Alessandra di aver meditato per un altro che poterlo sposa. E poi perché credo che appunto il lavoro visuale che i fotografi faranno è anche questo parte dello stesso progetto. Quindi, come diceva prima Alessandra, l'importante è cominciare in questo momento a fare rete. Quindi, che lo si faccia tramite la fotografia, che lo si faccia tramite l'inserimento di un enorme punto rosso dentro una piazza. L'importante è che mettere insieme tutto quanto questo per riuscire, credo, nell'istruzione di questa cultura del disastro, come si dice di solito. Vi ringrazio. Passo la parola a Pedro Orlandi, Istituto dei Ritari Artistici, Culturale e Naturale della Regione della Romagna, con un intervento da titolo di campagne fotografiche e il progetto urbano estivo. Sì, buongiorno. Sta bene? Siete? Ho chiesto come si comanda le cose. Un'altra cosa che forse non so, ecco, la mia presentazione non posso mandarlo da qua, perché non è oltre l'attività. Dunque, intanto ringrazio per l'invito Alessandra e, come avevo avuto già modo di dire, lo indico pubblicamente, il progetto di fotografia e questa iniziativa di oggi mi sembra, molto interessante e cercherò di spiegare brevemente come si può fare, forse in 10-15 minuti, diciamo quali sono le ragioni per cui la fotografia, sono molto convinto che possa aiutare molto nel comunicare, già stato detto, ma anche nel mettere a pochi problemi e credo che anche questo sia abbastanza evidente, ma forse anche riuscire a dare, attraverso la vostra promessa poco dei problemi, in alcuni casi anche riuscire a dare degli elementi quasi anche progettuali, diciamo, individuali e indicare delle strade, a seconda di come ci si pone, a seconda di che cosa si mostra, a seconda della vicinanza e della distanza, sono tutte cose molto note, credo anche abbastanza scontate, ma forse bene ripetirle e che comunque, diciamo, concorrono a produrre l'idea che la fotografia possa avere anche un luogo molto forte nella indicazione delle metodiche, nel metodo, diciamo, con cui poi produrre qualsiasi tipo di progetto, del progetto urbanistico. Allora, per raccontare un po' questa cosa che sto dicendo, io ho portato alcune immagini, se possiamo cominciare a dottorere, questa forse è un'immagine che a questo punto potrebbe essere, diciamo, io ho portato alcune immagini dai lavori che abbiamo fatto con l'Istituto dell'Istituto 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 da più di 40 anni ed è stato fondato proprio con l'obiettivo di documentare il territorio con questa ottica, diciamo, di tipo che io, diciamo, io ho questa parola che ho detto di essere effettuale, partendo anche, ovviamente, dalla registrazione di patrimonio fotografico storico che poteva essere, diciamo, oggetto dello stesso, diciamo, alla tavola di successo argomento, lui ha lavorato per tutti questi anni. Questa è presente una fotografia a Linari, che prendo come simbolo un po' del discorso che c'era prima Alessandro nell'introduzione, cioè il fatto che noi conosciamo la fotografia a Linari, conosciamo la piccia, non conosciamo nemmeno, perlomeno sono molto meno noti, i fotografi che fotografavano lo stesso spirito di con fotografia, che è quello che credo di avere così capito, cioè il fatto di eliminare un po' quest'aula, diciamo, dell'autodialità, che certe volte si impone in maniera anche eccessiva, e invece avere attraverso questo forno partecipativo della fotografia e che ho corretto sicuramente una modalità di impatto, di comunicazione e di costituzione della rete e di passaggio dell'informazione, di condivisione dell'informazione molto più forte. Se andiamo avanti, in realtà poi io mi spettisco subito, nel senso che torno subito, come diceva sempre Alessandro nella sua introduzione, citava Paolo Monti, quindi diciamo torno al tema dell'autodialità. In realtà è chiaro che non c'è solo il tema dell'autodialità o del motivo, c'è anche il tema del metodo, che penso che qui di fatto sia l'aspetto fondamentale e sostanziale. Allora, qui sono fotografie di Paolo Monti, che è un fotografo molto noto, uno dei più famosi e importanti fotografi del diritto in Italia, non è uno posto del Comunistano, io non ricordo mai, sono anche 30, però negli anni 60 e 70 lavoravo moltissimo per costituire proprio questa modalità di lavoro dell'istituto benicoltorale, questa è una fotografia attrezza dai fotografi del riferimento del riferimento culturale di Artimino Bolognese, fatta alla fine degli anni Sessanta, per impulso di una personalità come quella di Andrea Migliani, che è costituttore poi dell'idea dei risultati benicoltorali, come diciamo, sono sottomotti come quello della conoscere a cercare di fare, cioè l'idea di arrivare a una conoscenza capillare dei fenomeni, chiaramente poi all'epoca estendendo il concetto di stela non più al singolo movimento, come è andato fino agli anni Sessanta, ma al tussuto e noi alla cultura materiale, eccetera, e quindi queste campagne di riferimento avevano proprio una modalità così, diciamo, interdisciplinare come quello che si scelta oggi, c'erano fotografi, c'erano organisti, c'erano geografi, c'erano architetti, c'erano sociologi, insomma, c'erano tutte le persone storiche, più che sociologi, perché qui si vedevano le forme storiche, diciamo, del territorio di Milano e del Artimino. Se andiamo avanti, vediamo forse invece altre fotografie di Monti che sono portate sul centro storico del Mila Romagna, il Monti ha fatto un lavoro monumentale sul centro storico del Mila Romagna, non saprei neanche dire, ma sicuramente decine di miliardi di fotografie di Monti, tutti i centri storici, partendo a Bologna, a Modena, a Cilena, a Pordì, a Rimini, a Ferrara, non so se ne dimentico qualcuno, con molti centri nuovi. Ecco, Monti aveva, naturalmente, essendo un grande fattore, con un'abilità di rappresentazione, dire già una via del centro di Bologna, via Giorgone, in zona universitaria, con questa mirabile capacità di aria scurita, soprattutto di comprensione urbanistica, perché qui non ha l'intrezzo tra i porti, tra la strada, i vari portici, le varie direzioni, di queste situazioni urbani. Chiaramente Monti aveva una forza, talmente, diciamo, determinante dell'amministrazione dopo, che gli stava dentro, le amministrazioni comunali, amministrazioni all'epoca, non dolori, o comunque di forte strutturazione politica, per cui, diciamo, le idee erano molto chiare, le fotografie erano altrettanto chiare, non si poneva certamente il problema che, probabilmente, si pone oggi, e che lo si pone, io lo voglio in un'istituzione, quindi so bene che spesso questi materiali vengono prodotti e poi difficilmente vengono utilizzati, in questo caso erano prodotti e ultimizzatissimi, forse anche troppo utilizzati, nel senso che, certo, non è una corte di Monti, che è stato un'ultima cosa, che è stata un'ultima grandissima, però questa iniziativa, non posso dire che io non c'entro nulla, quindi, cioè, è una cosa che ho detto, che è un'ultima precedente, anche all'inizio, anche per l'altra mia nell'istituto, quindi è stata una grandissima iniziativa che però ha, in pochi modo, forse, con questo eccesso di comunicazione, è diventata poi forse una cristallizzazione delle immagini di Bologna e della cultura e della conservazione che poi ha forse anche un pociuto, a mio parere, che è un parere personale, alla, diciamo, l'effettiva gestione dei problemi urbani dei comuni umanistici a Bologna, però, diciamo, questo è un altro paio di urbani, diciamo che qui c'era la volontà, anche attraverso poi delle portature abbastanza evidente, che qui non facciamo la volontà, di comunicare questo principio, che è quello del circuito virtuale, cioè tutto quello che c'è, sostanzialmente deve essere considerato, tant'è che Monti non poterà mai, non poterà mai ciò che non poterà essere considerato. Il centro storico di Bologna e gli altri centri storici, nelle immagini di Monti, sono assolutamente privi di qualsiasi contaminazione moderna, perché il moderno poterà essere ingrato, politico, carcellato, perché è la conservazione che ci si occupava di mantenere solo le parti nobili, diciamo, non del sistema urbano. Quindi, diciamo, passava questa capacità anche attraverso delle operazioni di dentro, che venivano utilizzate, diciamo, affittibile, cioè la creazione di una scena urbana, questa in Bologna, ovviamente, cioè una scena che, diciamo, si è anche attraverso, insomma, non c'era proprio per i nostri strutsi, per parlare alle automobili, cioè le persone, come dice, quindi, delle persone, nelle fotografie, diciamo, per parlare alle ore. Però, ecco, diciamo, si creava, possiamo andare avanti, direttamente, se non ricordo male, se ne sono, ecco, una delle rare, ho messo a posto per dire, una dei rari casi in cui, diciamo, modena in cui non dimostra anche la città, diciamo, prima di questo, non si sapeva in quale periodo, ma, diciamo, prima del Novecento, insomma, il Novecento era assolutamente abolito, no? Però, diciamo, ma questa era funzionale, come, e questo è lo scopo, se non si fa oggi, era funzionale anche a dimostrare quello che poi si voleva dimostrare, perché c'era un'idea a porte e la fotografia si viva, aiutava, no? Lo sviluppo, lo studio, la comprensione, la documentazione di quest'idea e la comunicazione. Possiamo andare avanti? Forse ce ne sono altre? Ecco, qui, Monti, Forse, giorni in un secondo momento, velocemente, questo è un'automobile più certina di un famoso, penso, è un'automobile, ovviamente, che mostra, che si fece con noi negli anni 80, per i dati immagini in realtà, dove, ci andiamo avanti ancora, ho preso solo questo come immagine emblematica, queste sono tre fotografie di Giri, ecco, Giri, chiaramente, all'epoca era assolutamente, una visione assolutamente insopportabile per la visione del centro storico come quella che Monti, le istruzioni mondesi, gli anni, avevano portato avanti, no? Perché è in una mostra dove si parla di territorio storico e di piccole città, di piccoli centri della prima padana storici, da Paspaola, tanti altri, eccetera, lui affianca l'icolografia storica con cui gli storici, appunto, sono uno di questi temi, fotografie come queste, no? con anche una forte orientazione, ho detto che nel mio programma, che è un buonissimo di ormai, o per esempio, se non si può fare di migliorare, per esempio, una rappresentazione di questo genere. Però, ecco, credo che Giri, qui non siamo al mercato di una committenza pubblica, siamo in un campo assolutamente di autonoma visione, anche se non è stato più caldo, perché non è stata un'iniziativa pubblica, però viene lavorato molto più per, diciamo, autonomamente, che per committenze, però lui è riuscito a cogliere questa, secondo me, se non vedo che in quell'epoca veniva avanti, forse la cultura urbanista ufficiale non voleva vedere, non cercava di fare in modo di non vedere troppo, che era quella dell'espansione urbana, dell'arquine, 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 della espansione della città sul territorio. Andiamo avanti per andare veloce. Queste sono fotografie Abbiamo commissionato l'anno fa di vedere l'esilico per un lavoro che facciamo sulle aree produttive dismesse, sulle aree modificate dismesse, in occasione dell'uscita di una legge elettronale sulla riflessione europea, possiamo scorrere perché per la decisione sono assoluta, sono temi molto diversi. Sono temi molto diversi, ma ci sono anche qualche edilizio morale che dovrebbero essere demoliti per poter anche migliorare delle tecnologie. A quello dopo, se vogliamo vederlo, mentre l'esilico lavorava su queste aree che i comuni stavano scegliendo per lavorare fuori il nostro programma di qualificazione, evidentemente fotografava anche ciò che nel fattempo stavano scegliere in uno dei comparti delle economie, se non andava avanti. Queste sono altre foto della questione, perché chiaramente non era tanto di rappresentare l'industria dismesse, ma di rappresentare aree che i comuni mette nella formazione di loro, nella risposta al bando regionale, individuavano poche problematiche. Questo è un'altra foto di giudizio, che ho fatto invece molto più recentemente nel 2011 a Modena, tornando su un comparto, a cercare di rie, fonderie di Modena, eccetera, di Modena in frattempo, è stato utilizzato per Modena 9, un progetto anche molto, 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 già, andiamo avanti. Ecco, questo è, in un'altra, sempre di questa serie più recenti, abbiamo fatto a Piafini che ho fatto per Modena, è un lavoro che, certo, è stato fatto dalla città di Modena, la modena di Modena, da 117 studi, su una storia italiana, sulla Modena del Novecento. Allora, noi l'avamo pensato, su questo domenico culturale, di contribuire, per, diciamo, affiancare la visione del mondo, anche invece questi nuovi temi, che, per vedere così, ovviamente, sul loro piano, insomma, no? Cioè la città del Novecento, la Piafino Dio, comunque anche, diciamo, di livelli interessanti o importanti, anche con cui il Novecento si è espresso, si è espresso, ecco, allora, la città, è un'edificio di Nicolè, che, diciamo, è abbastanza importante, molto, molto, che anche, cioè, diciamo, sempre nell'ottica di cercare di cercare il piano, così come, diciamo, ha portato quest'anno, ma no, così come Monti aveva fatto, forse uno sguardo sulla città del Novecento, invece, altrettanto, e portato avanti anche, con la capacità di distinguere il buono, il buono, il discreto, e non facendo un altro un basso, ecco, in questo senso, la fotografia di ricerca, la fotografia di ricerca, che chiaramente, deve essere preparata, ma questo è quello che è vero, che oggi si risponde, che sia stato fatto, che si farà nei prossimi giorni, preparata alla riflessione di conoscenze, no, conoscenze, non tanto, che potete, e invece, magari, anche, le persone che conoscono il buono, meno avanti. Questo è un altro piccolo esempio, di cercare di conoscenze, molto brevemente, ma molto individuivi. Ecco, questo, sempre per dire, la convinzione che la fotografia possa servire per, con questo quadro, con questo quadro, con questo quadro, con questo quadro prima, è chiaro che, con questo quadro, non vuole dire che può sostituirsi al progetto, nel senso, come a TIP, o di computer, o di... Però, se vuol dire, tervelo sviluppare l'idea, per sviluppare la concezione, no, un senso concettuale, che può aiutare, ovviamente, al di là che sia bella, che sia brutta, cioè, il tema è quello di esplicitare un concetto. Questo è un accordo di prigli, che è servito, anche qui, fatto da una serie, che commissioniamo, a dire, di capire, che è un prezzo concetto, con l'area, in termini di una legge regionale, che conteneva anche un articolo, abbastanza complesso, da definire, da studiare, da scelare, che era un tema, della definizione, della roba, di congure con il paesaggio, cioè, un articolo di questa legge, che prevedeva anche un sostegno regionale, all'eventuale minimazione, decommissione, edifici considerati in congure con il paesaggio, secondo i sviluppi di ragionamenti, che i comuni dovevano fare, all'interno dei quali tanti anni, e allora, si decise, siccome era difficile, definire che cosa significasse questo, ma, già, non aveva spiegato, per fine, per segno, anche perché non si inteneva, che fosse un tema unico, che non poteva essere, edifici, diversamente declinato, a seconda delle diverse, delle persone territoriali, delle sensibilità, delle comunità, allora, in questo caso, chiaramente non facendo un lavoro praticitato, veramente, con i cittadini, facendo un lavoro attraverso, le interpretazioni, che i comuni, i cittadini, che si potevano dare, di questo tema, che è un lavoro di possibilità e conoscenza, e andavamo a girare, nel territorio dei quali comuni, con i fotografi, perché avevamo, questo è un'area dei monti, questo è un edificio, tutti edifici, regolarmente assentiti, non edifici, come si dice, non regolari, e, ecco, questo è un'area, prima, che è un edificio, mi sapevo, demolito, è un edificio, a cinque pianti, ma è un membro di cura, da cinque pianti, fino a corrido, e poi andiamo a randu, questo è un altro foto, di Pico Guiglia, che è il maggiore, con quella, forma, anche, in certo modo, un po' evitante, diciamo, di approccio, di raggiungere, un po' evitante, che era, così, un po' evitante, di perfettare, della ricerca, un po' dello scelativo, insomma, tra questo caso, era molto opportuno, perché il concetto, che c'era dentro, era chiaro, che era un po' evitante, una struttura bolognese, l'incomunità, di fatto, era, l'incomunità, di tutti i luoghi, di tutti i spazi, della interagittà, di progettare, di accudire, diciamo, un po' evitante, che si vengono avanti, queste sono fotografie, che c'era l'incomunità, sono fotografie, con un po' evitante, un po' evitante, su un altro incarico, che vedemmo, per una ricerca, su un po', noi decidiamo di trattare, poi, in una maniera, un po' anticonconconzionale, però, anche la fotografia, che abbia anche, questa capacità, di smascheramento, no? Cioè, smascheramento, anche di noi comuni, e, allora, noi avevamo, non si sente? Noi avevamo, l'idea, di rappresentare il post, una volta tanto, anche come una città, dicendo che poi, infatti il post, ha sempre, centomila abitanti, no? sulle proprie live, diciamo, ecco, un minuto, un po' fino, e, allora, diciamo, far vedere anche, quello che c'è intorno, dalle case, ai quartieri, ai luoghi, dove la gente viveva, questa città, poi, andiamo avanti, e quindi, queste erano le immagini, che seppertino ha fatto, secondo questo concetto, che piante molto poco, al nostro assessorato turismo, diciamo, che piante pochissime, no? Secondo noi, avevamo, l'intenzione anche, di, eh, questa, questi, questi ruoli, in maniera diverse, ma solito, andiamo avanti, questa è una foto, ho visto prima, di Tere Bud, quindi, ho visto perché, è una sua fotografia, legata a un, lavoro che facciamo, sull'architettura, del secondo, novecenti, nel medio romano, quindi, si troveranno anche Alessandra, in vari fotografi, a cui vengo in carico, di approfondire, alcuni temi specifici, Michele, lavorava ovviamente, sull'edifici, armi della costa, e le altre, andiamo avanti, questa è una foto, di Michele, che ho messo, proprio perché, è una foto, del centro storico, di Bologna, che, diciamo, che molti, non l'avrebbe fatta, perché, mescola, diciamo, cose anche, non so, l'edificio di destra, è l'edificio della, della mia Marconi anni 30, che sicuramente, non esiste una foto, di Monti, non è, cosa che era, il centro storico, cioè, ovviamente, siamo, il centro storico, non è, il centro storico, guarda, mi fermo, scogliamo, questa è una foto, di Montiobotale, mi sembra, mi hai visto, che Montiobotale, è una foto, di Stocco, è una foto, di Montiobotale, delle bocce, di Cucinello, di Battito, forse anche faticoso, per non dire, per avere, di Bologna, che non possiamo, di Montiobotale, un'altra foto, di Montiobotale, sempre della serie, della fotografia, della lettura, della seconda, della regione, e di un avanti, non si trattava di nuovo, poi, credo, è una foto, della fine, non so, diciamo, i concetti, che volevo dire, sono questi, quindi, credo, che siamo finiti, anche da, ci troviamo, queste sono foto, fatte più recentemente, su, anche di, tutte le cette, che vediamo, di noi ormai, perché, tra le cittadine, sono, sono vari, fotografi, si chiamano, cosa, come noi, sempre, su questa, quindi, questo domani, è stata, una, tutta, tra, tra, il filetto ingegnero, che è stata, che è stata, che è stata, che è stata, come al solito, e che comunque, diciamo, essendo un comparto, di sedi, e tre, aveva bisogno, anche, di una visione, molto diversificata, infatti, abbiamo chiesto, il prototipo, e l'unità, di lavorare, sull'attività, sulle, sulle, naturali, anche, sulle, sulle, spontanee, abbiamo chiesto, di lavorare, sulle, sped. pedagistici, di raccorda, anche, con il tono, di un politico, per i pedagistici, in avanti, forse, c'è stato dato, questo è una cosa, è il tempo al finito, però, vi chiedo di chiudere, grazie, chiudiamo, grazie. Mi fa, 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 passo la parola, alla situazione, a delle due ragazze, Chiara, Antonisci, e di Granza Finna, con interventi, dal titolo, l'impatto del reale, sui bandaccia, vi chiedo, voce, vi chiedo, di stare molto vicino, al microfono, e se volete, potete spostarci, mi chiamano qui, così, che ci esprite, la presenza, se stiamo, dopo ci sarà, modo di fare, delle domande, quindi, vi chiedete qualcosa, scusate, 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 Grazie. La mappatura non è il territorio, il territorio non è reale, l'immagine è ancora un'altra cosa e intanto la vediamo distorta. Quindi qui mi sa tanto che vedremo un sacco di foto distorte oggi, cercheremo di immaginarci come sono quelle le lezioni. Diciamo che questo nostro intervento parte da una riflessione personale che è stata l'impatto, l'abbiamo chiamato l'impatto del reale, un titolo molto ridondante, forte, ma è una conservazione molto semplice. Abbiamo visto, noi facciamo, diciamo, le curatrici, seguiamo dei progetti fotografici, abbiamo avuto modo di collaborare con gli apilani e di essere spesso qui all'Apila. Prima di venirci la prima volta, abbiamo visto un sacco di fotografie, siamo arrivati qua e la realtà è qualcosa che non era raccontabile. Ed è stato per noi che lavoriamo proprio in quest'ambito un po' forse un interrogativo a cui non abbiamo ancora dato una risposta. Di sicuro ci ha fatto spostare un po' l'attenzione su questo tipo di problema, su quello che è sempre ritornare all'esperienza, su come rendere questa esperienza. E' anche qui che il nostro nome, mi pare, è un progetto di fotografia come comitato scientifico, ma di fatto non abbiamo fatto niente. Ci chiediamo un po' cosa possiamo dare a voi, come possiamo rapportarci a voi adesso e probabilmente più che ora dopo. Partiamo da questa mappa che ha realizzato la salute Cecco, scusate, che per noi è stata proprio una suggestione di un'associazione visiva a un lavoro di validato. Non so se conoscete questo artista, che non è solo un artista, è un fotografo, è un performer, è uno sguardo critico, è un rompiscato, che partecipa a una serie di manifestazioni, mettendo in discussione molti aspetti della realtà. E' validerato un fotografo, chiamiamolo fotografo, libanese, che adesso vive negli Stati Uniti, ma che ha lavorato sul dopo Libano per un sacco di anni con questo progetto che si chiama Bianca Scrutto. Ci sembrava una buona suggestione perché, riprendendo lo spunto dell'assessore, la realtà si è moltiplicato e perso in uno, nessuno e centotila, dividendo il progetto in tre sezioni. Una in cui, teoricamente, il gruppo trova una serie di documenti, da fotografie a video, a tappuini, realizzati da persone anonime. Un altro, che è quello su cui ci soffermeremo un po' di più, di cui abbiamo portato qualche immagine, che è proprio fatto, teoricamente, da Rad, che si chiama, let's be honest, the weather health. E' tutta una serie di altri documenti, di cui non vi parleremo, ma che, appunto, se andate nel sito di Bianca Scrutto, li potete guardare da soli. Allora, la suggestione qui era che, a una serie di fotografie, teoricamente, realizzate durante e dopo la fine della guerra in Libano, Rata ha iniziato a raccogliere tutta una serie di bossoli di proiettile, rendendosi conto che ogni bossolo più o meno corrispondeva la nazione che aveva fornito questi proiettile, delle rispettive armi, i vari soggetti coinvolti nella guerra. Ha creato questa tassonomia arbitraria, che qui vediamo rappresentata da questi pallini, che un po' come i pallini che ha usato al torno della mappa, raccontano la partecipazione delle varie nazioni, in maniera indiretta, alla guerra di Bambini. Quello che ci ha colpito, e che adesso vi facciamo scordare così, con l'attività rispetto a questa cosa, è appunto un approccio multidisciplinare, il fatto di affrontare un argomento che è interno e esterno, anche qui abbiamo a che fare con tante persone che vengono da fuori, con tante persone che questa situazione a Milano vanno vissuta direttamente che in questo caso saranno possibile. Ecco, ci chiederò come moltiplicarsi e come cercare approcci che oltrepassino il dato, anche la documentazione, anche il problema tra autorialità e invece neutralità. Forse un'iperautorialità come quella che ci propone RAD, e che si basa su qualche cosa che ci mette anche un po' in guardia sulla verosimiglianza del dato che ci viene riportato. Perché tutto il lavoro di RAD non si capisce quanto abbia a che fare con quello che è successo veramente, ossia una rappresentazione che si porta più sul versante immaginario. e allora abbiamo voluto riportarvi anche questo spunto, diciamo, come elemento di qualche cosa che è questa famosa immagine del coniglio anatra. Il coniglio è un anatra e viene da una foto, è una percezione della foto, magari avete avuto uno stesso approccio con il famoso cubo che non si capisce se si vede con prospettiva tra verso l'interno o verso l'esterno. però è un po' in una maniera molto elementare per la giornalia e la serogastica. Il problema dell'immagine è su che cosa ne possiamo fare tutti insieme. Come avete capito abbiamo pensato che un calendario come questo e con gli esperti accadetici che era il nostro problema e voleva essere un intervento un po' scolabile, volante, fatto di punti e di punti di voce. Allora, parlando da Beirut, siamo tornati anche noi a Basilico e l'idea era quella di arrivare sulla rappresentazione del reale e su quelle che sono le possibilità della documentazione. L'idea che, come Melio ci ha raccontato, come si è necessariamente ormai, Bazzinico ha attraversato la sua esperienza e la sua produzione. La frase, la leggete, il mio lavoro è quello che faccio a preparare la città, conosco bene la riqualità dei gesti necessari legati all'esplorazione del gesto urbano, ma una città ferita, oltreggiata, ha bisogno di una sensibilità più sapericolare, prendendo un'attenzione speciale, di partecipazione, ma anche di rispetto. Prima ci sono la commozione e il dolore per la tragedia, poi la paura e l'editazione che pregge con l'inizio della pratica rituale della fotografia e di rispondere a considerazione e responsabilità. Poi qualcosa succede, forse la città scolta e finisce un'esitazione, si vengono un silenzio mediativo, una pausa dopo la quale si può agire, osservare, prevedere il risultato. E quello che in questo ci sembrava interessante come fotografo, come cittadini e come... ...doce. Non si possa aumentare il rischio? E come voci? Non è troppo in tanto no. Levi i voci? Eccoci, meglio. Scusate. Sì, va bene. Grazie. Cercherò di tenere un filo. L'idea era quella... ...l'idea era quella... ...l'idea era la scelta di troppo. Vieni, fa dare te che ho trovato altre sentite. Sì. Ok. Ok. Qua è un po' ... ... ... ... Allora, ci interrogavamo sulle domande e le possibilità che si pongono a un fotografo di fronte alla realtà, all'applicazione di uno spazio che come nel caso di Beco, che forse nel caso dell'Aquila, è l'esperienza stessa nostra di fronte ad alcune situazioni dell'Aquila. Le scelte che un fotografo si trova ad affrontare, quindi in questo caso Basilico è un esempio di una possibilità che sta a metà dalla misurazione e l'aspetto empattico della città. Giusto come appunti abbiamo riportato alcune immagini di Beco, rubate miglioremente da internet, scusate la qualità. E interrogandoci quindi sull'idea di punto di vista e di misurazione della realtà, siamo passati a distinguere, a parlare di... Il poco Basilico ci piaceva di più come voce, senza nulla togliere al suo lavoro, che come immagini che ci ricorda. Era proprio ritornare all'esperienza, perché poi è una parola su cui siamo ritornati un po' parlando fra di noi, ecco quello che abbiamo fatto è stato confrontarci un po' con Fiore. Era il problema del paesaggio, è una parola che sentiamo in continuazione, paesaggio, come sentiamo in continuazione punto di vista. Ci chiediamo come annullare forse più che l'autorialità, la questione del punto di vista o riprendere in maniera un po' più relativizzata. Nel nostro abstract parlavamo con tutta, diciamo, l'unità del caso, del fatto di riprendere in considerazione non solo la parola paesaggio, ma anche la parola territorio, ma anche la parola migliore. Anche qui abbiamo riportato la parola di Guedi, siamo vittime recenti di una mostra che ha aperto a Roma e che per noi è un altro input importante che ci fa piacere portarmi qui. E' una mostra che in 130 maggio, che tra l'altro sono state attivite dall'Istituto Centrale della Tavola di Interventazione, sicuramente il senso è importante, anche per quello che parlava sempre il dottor Orlando, c'è una documentazione del territorio che parta anche dall'interrogazione di uno sguardo che spesso è anche un po' indisponente, ma che ricorda, diciamo, una visione di contemporaneità, che spesso siamo portati lontani. Ecco, forse è una parola paesaggio, è una parola consunta e consumata, forse dobbiamo ripeterla all'infinito, finché si annulla completamente il suo senso e ne ritroviamo con una valenza nuova. Di certo è che i dettagli sono molto importanti, come ci insegno voi, anche sotto l'ispirazione del lavoro di Cezanne. Abbiamo cercato di mettere tutta una serie di frasi qui, che speriamo che magari possano essere di ispirazione a qualcuno di voi. Come è stato per noi la lettura quest'estate di un libro, scusate, non ricordo assolutamente il titolo con le parole, un problema gravissimo, di una scienziata che si occupa, diciamo, di colettivismo, si chiama Alexandra Horowitz, che parla del suo andare in giro per l'isolato dove abita, insieme a tutta una serie di esperti. Secondo noi è un libro interessante e stimolante perché ci ha fatto molto pensare anche a quello che andrete a fare, o avete iniziato a fare qui, avere a che fare con delle guide che non conoscete, ognuna con un'esperienza singolare, assolutamente peculiare, per cui, intanto che andiamo qua, abbiamo ricordato quello che tutti voi sapete, che ogni scuola di pensiero poi riconosce con una determinata definizione, ma a me piaceva solamente l'idea di ritornare su questa unione e separazione di questi termini. Questa Alexandra Horowitz è una scrittrice molto simpatica, anzi tutto, e se ne è andata in giro con geologi, con artisti, con bambini, con cani, ognuno di loro gli ha insegnato che la visione è qualcosa che sicuramente può essere ampliata, per esempio ritornare a una percezione del proprio corpo, oltre al fatto del soffermarsi ogni volta su delle staglie diverse che poi rimessi insieme fanno apparire un nuovo mondo, il mondo che può essere anche fatto solamente di inserte, e questo, chi lo sa, ci chiediamo come può essere cambiata anche a livello paunistico l'acqua in questo periodo. Ci fa piacere concludere questo intervento con una frase di Robert Smithson. Ecco, la Lendart, magari negli anni 70 torniamo ad essere un po' dostatrici, ci ha insegnato che forse il primo esercizio che dobbiamo riniziare a fare è semplicemente camminare, camminare, camminare. Smitson, non solo lui, Richard Locke, molti altri, camminando hanno riaperto i paesaggi, io uso la parola paesaggio, non si possono usare troppe parole, a un nuovo tipo di esperienza, un'esperienza che ci auguriamo che possiate trovare anche voi per costruire un nuovo attacco dell'acqua. Grazie per la parola e grazie agli organizzatori per l'invito. Mi scuso, non parte la presentazione PowerPoint, ma penso che anche così, insomma, si possa vedere. Bene. Allora, il mio intervento è questo, la geografia sociale del territorio aquilano dopo il sisma del 2009. Perché? Perché io ero all'Aquila, vivo all'Aquila, ho sposato un aquilano, ho un figlio nato all'Aquila, però di mestiere faccio la ricercatrice universitaria in geografia, che so che ho una parolaccia in Italia perché non si sa che cosa fanno i geografi, anche se oggi devo dire con piacere che dai fotografi invece è venuto fuori il ruolo dei geografi. Allora, perché? Perché dopo il terremoto, è chiaro, la crisi è stata personale, individuale, ma la crisi è stata anche professionale. Il terremoto, tutto quello che ha seguito il terremoto, ha a che fare con il territorio, profondamente. e l'oggetto principale della disciplina geografica è il territorio. Allora, qual contributo potevo dare io in quanto terremotata, ma anche in quanto geografa che fa di mestiere l'analisi del territorio e di quello che viene sul territorio, che cosa potevo fare io? Quindi un torumento unicidiale, un percorso che all'inizio non è stato per forza di cose lineare e che però poi, con un gruppo di persone, in maniera sempre volontaria e tradotta, siamo riusciti a trovare la strada. Quella che io vi chiuso adesso è, in parte, il risultato di una ricerca sul campo che è in genere, che è continua, che non finisce, in parte proprio il racconto di esperienza personale. E come la ricerca scientifica si può mettere veramente in discussione quando accrollare non è la casa di qualcun altro, ma è il casa tua. Allora, l'obiettivo è questo, elaborare una narrazione geografica del sisma, geografica di centrata sui luoghi, e non sui luoghi in astratto, ma sui luoghi della quotidianità delle persone. Ognuno di noi, dopo il terremoto, si è ritrovato con orientamenti, prospettive, punti di vista, rovesciati, capovolti. Io, per tornare a casa dal lavoro, andavo verso ovest, dopo il terremoto, per tornare a casa dal lavoro, andavo verso ovest. Avevo il sole agli occhi quando tornavo a casa la sera, altrimenti, dopo non l'ho avuto più il sole agli occhi. E questo incide molto profondamente nella coscienza. Allora, tutto questo come si tira fuori? Con la namentazione, con poveri noi? O possiamo tirarlo fuori inventando una nuova storia, una nuova racconta di noi? In questo territorio che è terremotato. Che vogliamo fare? Il punto di vista è chiaramente... Il punto di vista della... No, non parte la presentazione. È il punto di vista dei luoghi della quotidianità. Quindi io, tutto quello che vi farò vedere, carte tematiche, grafici, hanno questo obiettivo di dare densità e profondità al territorio, nel senso di far vedere come le persone, dopo una tragedia, si riorientano nei loro comportamenti, consapevolmente e inconsapevolmente. Nelle piccole cose andare a fare la schiesta, ritirare la pensione alla posta? Quella che è la vita di tutti i giorni. Prendere la macchina per accompagnare i figli a scuola. Tralascio tutta una serie di considerazioni più teoriche, però, ecco, le domande sono queste. L'ambio ha subito una trasformazione e la vedremo. Nella quotidianità delle persone, a partire dallo stravolgimento dei luoghi delle persone. Le persone per vivere non fanno più riferimento ad un luogo che sentono coeso e compatto. con una coerenza. Ma le persone per vivere ormai si distribuiscono su più luoghi. I nostri armati per dire, ve lo concretizzo al massimo, io per mesi ho avuto un po' di vestiti da mia madre a Sommona, 60 milioni da qui. Un po' di vestiti a casa del mio socio, orientando la casa, me l'hanno riparata. Un po' di vestiti, vi lascio immaginare. Uno non ha in più dei vestiti, è difficile, è complicato ricordare di quei vestiti. Immaginate lì, una tragedia, per esempio, chiusi negli scatolieri, come se non li avessi. Allora, tutta una serie di domande. Ci sono state delle trasformazioni e le domande sono queste. La trasformazione più evidente nella quotidianità è che ormai andiamo tutti in macchina. e lo vedremo con dati molto piacenti. Allora, qua sono le nuove pratiche improntate alla mobilità, che non è solo il fatto della macchina, è che tu sai che starai in un posto per se mesi, un anno, due anni, poi dove vai? Poi dove ti sposti? Te la rifanno da casa, non te la rifanno. Quindi, la mobilità in senso generale. Questa mobilità, temporaneità, provvisoria età, possono costituire dei nuovi fondamenti per un nuovo racconto abitante-territorio? E che tipo di racconto si istituisce su queste nuove pratiche che si sono instaurate all'arbera? A seguito del sisma ci sono anche le scelte chiaramente emergenziali. Come considerazioni finali, così ve le do, e poi facciamo questa carrellata di tante, bisogna rimparare a fare cultura. Quella che passa attraverso il comportamento delle persone. Bisogna riorientare i comportamenti delle persone. Se non si arriva al noccio della questione, cioè come mi comporto io quotidianamente, è difficile che nasca una cultura della prevenzione, una cultura della solidarietà, una cultura dei disastri, della catastrofe, per non rimparare ogni volta che cominciare da capo, le cose che si dicevano. Bisogna rimparare a fare la storia, a raccontare storie. Le cose non accadono perché qualcuno ce le fa cadere. O noi siamo protagonisti, e allora poi possiamo dire, ah, mi sbagliato. Oppure, se non siamo protagonisti, quello che ci succede addosso è in un'unità di lamentarci. Bisogna rimparare a immaginarci e organizzarci come comunità. Tutti i dati che vedrete, e questo è un punto a cui io tengo un punto, tutti i dati che vedrete sono dati di intervelo. Sono questionari, interviste, colloqui, momenti di ascolto, faccia a faccia. Non un questionario è stato riempito online, non un questionario è stato mandato via posta. Questo perché? Perché se nel questionario avete trovato una risposta non data, a pari della tortina, il 10% non risponde. Però se tu il questionario lo stai somministrando faccia a faccia, e a quella domanda non c'è risposta, ma perché la vecchietta, quando tu gli chiedi, quando pensi di rientrare a casa tua, piange, il dato è diverso da non rispogne. Perché non risponde? Quindi hai un valore aggiunto nel fare un questionario faccia a faccia, uno per uno. E questi dati sono stati raccolti dal 2010 in diverse iniziative, una questa più da cittadini che avevano voglia di fare qualcosa, abbiamo girato nove progetti case e incontrato le persone faccia a faccia per riempire questi questionari e queste interviste. che poi è diventato un evento pubblico, abbiamo restituito questi dati, non sono diventati un articolo scientifico da spendersi in qualche convegno internazionale, anche questo. Però come prima restituzione è stata una restituzione alla città. E poi tutta una serie di iniziative con un protocollo di intesa con il Comune dell'Atila e il Dipartimento di Scienze Umane di cui faccio parte, tutta una serie di iniziative in occasione delle quali appunto si è continuato questo monitoraggio permanente, continuo, della socialità, di come gli apriati vivono il territorio. Vado alle catture, anche questo poi è diventato un evento dove noi restituiamo sempre tutto, è tutto online, è tutto gratuito, è tutto scaricabile, non c'è copyright di ricerca su queste cose. Ultima precisazione, il grande sforzo che cerchiamo di fare con i limiti, perché la cartografia è uno strumento per eccellenza strato, matematico, geometrico che deve stare a delle regole. Però lo sforzo che abbiamo cercato di dare nella rappresentazione è di dare profondità del territorio. Il territorio lo fa chi lo vive, non solo quello che ci sta, anche quello, è chiaro, come dimensione materiale, ma chi lo vive, le pratiche che ci si svolgono. Quindi cerchiamo di uscire dalla rappresentazione dello spazio come un ideo, come esotropo, per cui ogni punto valia come un altro. Non è vero. Alcuni punti pesano di più in una rappresentazione di altri, pur essendo identificati da una coordinata giurale. E non è una rappresentazione astratta. Per capirci, non avrete delle rappresentazioni di questo tipo, queste sono tratte da l'Aquila 2030 Calafati Parca, una rappresentazione autografica tutta passata sulle distanze chilometriche. Distanze chilometriche, perché ci dice più a noi, all'Aquila, una distanza chilometrica. Ormai anche i bambini sanno che vivere a Scoppito, 15 chilometri dal centro, poi il centro, che significa più il centro, e vivere a, prendiamo un altro di 15 chilometri, che ne so, di da Sant'Angelo, più o meno, qua, va bene, diciamo Ocre, 13 chilometri, non è la stessa cosa, tutti i chilometri sono quelli, ma provate voi a venire verso l'uno e mezzo da Scoppito, verso il centro, quanto tempo impiegate? Quanto tempo spiegate in macchina? Provate voi da Scoppito a Scoppito. Ok, quindi non è questo tipo di rappresentazione. La geografia dell'Aquila, vediamola ora. Questa è una carta che rappresenta l'Aquila con il centro storico in rosso, zona rossa, e tutte le aree in viola sono i cosiddetti progetti case, sono 19 insediamenti, su quelle casse di cemento che si diceva prima, a cui si aggiungono, se si riescono a vedere, queste indette, che sono le scuole, quindi i moduli ad uso scolastico-professorio, e a cui si aggiungono poi quelle in rosa che non si vedono perché sono più piccoli, che sono i mappi a moduli abitativi-professori, quelli che si è scelto per le frazioni. Nelle frazioni si è scelto di fare i mappa vicino al vecchio abitato distrutto, mentre i progetti case hanno seguito tutte altre logiche. Allora, che cosa è successo? Questa è una rappresentazione proporzionale, i cerchi sono proporzionali, con la costruzione dei progetti case è successo questo, dal centro storico sono stati sparpagliati un po' ovunque i progetti case agli abitanti, dal primo cerchio periferico, diciamo, quello che si è costituito dagli anni 50, 60, 70, intorno all'Aquila, sparpagliati dappertutto e dalla periferia, diciamo, più che altro Pettino che ha subito più danni, ancora essendo un quartiere di recente urbanizzazione, anche questi sparpagliati un po' ovunque. Che cosa ha significato questo? Allora, ha significato uno stravoglimento in termini di mobilità. Tutti quelli che prima avevano una vita di quartiere per cui si spostavano, andavano dal canettiere a piedi, andavano a scuola a piedi, andavano all'ufficio postale a piedi, di colpo se non hanno la macchina non possono più spostarsi. Quindi, mi spiace, non si vedono, come ve li faccio vedere, va beh, era molto impressionante, voi vedete tutte queste colonnine prima del terremoto in cui la mobilità si distribuiva tra autobus, macchina, a piedi, e poi la mobilità dopo il sisma che diventa completamente intagiata, tutta in macchina. Impossibile andare dovunque sia senza la macchina. stessa cosa, i tempi. Allora, qua si dice, no, beh, prima quanto impiegavi per andare a scuola? Cinque minuti, adesso impieghi mezz'ora. Uno di Roma ti direbbe, è in testa lamentata in mezz'ora, ma ti cura lì. E no, il punto è che tu prima ci andavi in cinque minuti a piedi, magari, adesso ci fai in mezz'ora in mattina, tua madre ti lascia sulla strada così perché non ha modo di parteggiare e tu perdi occasioni di socialità. Questo è il punto. Tu non scendi più dalla mattina, non parti più con la mamma del compagno di classe di tuo figlio, non scambi più, cioè non credi. Eviti dei momenti di socialità. Eviti volontariamente, no, è il territorio, siccome ha preso forma dopo il terremoto che ti porta a non avere più occasioni di socialità. La scuola, l'ufficio postale, eccetera. Altri comportamenti accelerati, allora, dopo il sisma, nell'anno e mezzo dopo il sisma, i centri commerciali si sono raddoppiati di numero e non lo potete vedere, che cosa è successo? Questi centri commerciali sono stati costruiti all'estremità degli assi principali di Aria, le statali, le due statali che attraversano la città. Ed è proprio un modello di evitamentamentare i centri commerciali nell'estremità degli assi di percorrenza principali doveva confluire il commercio. Che è successo? È successo che dopo il sisma, prima del sisma un 10% andava a fare la spesa al centro commerciale. Dopo il sisma il 28%, obbligatoriamente. Prima del sisma un 30% andava a fare la spesa a piazza d'uomo, quindi ancora un momento di socialità, il solito con la tua solita pancareta, il tuo commerciante che magari ti mette da parte delle uova preste, eccetera, eccetera. Tutto questo si spersonalizza. Il tempo libero e anche qua si vede ma è impressionante è impressionante vedere come dopo il sisma soprattutto gli adulti, il 54% degli adulti rimane a casa di piatto e passi totalmente libero a casa il 54% e sappiamo benissimo che probabilmente a casa non si passa a leggere il libro ma si passa davanti la televisione. c'è un episodio carino di una vecchietta nel progetto di caso di Roio che ci ha detto ah ma voi siete i nostri comandanti scambiandoci per l'amministrazione dovete segnalare a qualcuno che a me si vede solo le due quattro al televisore che ci ha dato per lo scuolo. La tutela è stravolta allora questo tra l'altro deve provare a far svegliere io lo so e poi come faccio? Non è fatto che sarò più per quindi va beh allora se voi prendete una pianta di un progetto case voi vedete la distribuzione delle piastre lungo delle strade non c'è logica in questa distribuzione delle piastre nelle strade che voglio dire magari avete tre piastre che fanno capo alla strada A poi c'è tutto un altro agglomerato che fa capo ad un'altra strada e poi dopo che ne so 500 metri c'è un altro gruppo che rifa capo alla stessa strada del primo gruppo appena entrata nel progetto case non c'è un luogo dove tu dici ci incontriamo ci incontriamo dopo aver già che vanno è tutto isotopo un punto vale l'altro è tutto geometrico la stessa numerazione delle piastre crea un disastro nella distribuzione della posta perché le piastre sono state stramolate da vari progetti per cui tu avevi la piastra numero 2 3 4 125 a questo si è aggiunto il numero 5 e poi capite che lo stravolgimento quotidiano è forte e non può non uccidere sulle coscienze perché il discorso è tutto qua è di ingiustizia spaziale ed è è vabbè io che vi devo fare ed è di comportamento democratico qui mi fermo il fatto di vivere il territorio in un modo o in un altro condiziona le coscienze condiziona la capacità di leggere la realtà e quindi condiziona tutti i nostri comportamenti tra cui quello politico che si può rivedere riscontrare in quello elettorale per esempio questa è la carta delle ultime amministrative all'Aquila se poi vedete tutte le frazioni intorno hanno un voto che si identifica perché si concentra su un unico candidato chi non questo sia non ce ne importa se voi vedete Pettino e vedete Paganica di dove i processi di urbanizzazione prima del terremoto questo è un altro punto i problemi non nascono con il terremoto ma il terremoto accelera dinamiche già in alto se voi vedete Pettino e Paganica è la classica opposizione ma non che ha bene male perlusconi contro perlusconi perlusconiani non perlusconiani che non ti dà possibilità di capire quelli che sono i tuoi veri bisogni mi fermo con questo dato nelle varie attività di monitoraggio di quello che pensano le persone all'Aquila abbiamo chiesto hai mai pensato di trasferirti in un'altra città gli adulti dicono di no il 28 il 72% i giovani dicono di sì il 46% quel che è strano però è che gli adulti dicono che fa tutto schifo ecco qua le colonnine rosse sono le più alte dal punto di vista urbanistico politico economico sociale fa tutto schifo però rimangono i giovani hanno una visione più realistica perché non è che fa tutto schifo tranne l'aspetto politico amministrativo però non lo vogliono andare via in ogni caso giovani e adulti quando gli si chiede come sarà l'Aquila fra vent'anni diteci tre aggettivi per immaginare l'Aquila fra vent'anni il dato preponderante sia negli adulti che negli giovani è che non si riesce ad immaginare e lo vedete qui le tortine grigie e le tortine violetto alcuni proprio non rispondono non mettono i tre aggettivi fra vent'anni e altri dicono sarà peggio sarà quindi non c'è futuro un territorio che non ti fa sognare non ti fa sperare è un territorio già morto grazie 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 perché approvvite perché probabilmente pensate che sia così cioè che la fotografia è l'unica speranza e mi riallaccia all'intervento della professoressa che mi ha preceduto di immaginare che cosa sarà questa città io ci credo molto fra l'altro perché cercherò nel mio intervento di chiarire quali sono i punti di forza e i punti di debolezza di questa fotografia innanzitutto io sono un urbanista così come è stato accennato e l'urbanistica è una professione in declino come molte altre l'urbanistica non piace agli amministratori in particolare non piace agli amministratori di questa città non piace in genere agli amministratori perché perché è una disciplina che poi si traduce in elementi prescrittivi regolativi definitori tra l'altro in Italia l'urbanistica ha avuto una sua declinazione che è progressivamente degradata su questo aspetto giuridico legislativo per cui le scelte finali le fanno i TAR e non le fanno i progettisti urbanisti allora perché questa speranza nella fotografia come progetto prima cosa perché c'ha illustri precedenti quando iniziò la ricostruzione quella post-Bellica il piano territoriale per l'Abruzzo che veniva redatto da personaggi illustri Leonardo Benevolo fra questi Michele Valori Federico Gorio aveva un allegato di fotografie bellissime fatto da Leonardo Benevolo anche lì si trattava di documentare documentare un abruzzo più di tipo antropologico che di tipo progettuale ma questo aspetto della documentazione anch'esso manca in tutta questa ricerca il PRG dell'Aquila il documento su PRG dell'Aquila quello per il pubblico quello per la diffusione è corredato da fotografie e così ci sono importanti raccolte di foto di storia urbana quella di Stoc che voi avete anche chiamato l'uno del workshop ma così anche quella l'Aquila dell'800 e l'900 che abbiamo fatto insieme a Colapietra raccolte di documentazione fotografica fatte con un'interazione con i cittadini perlomeno la seconda la prima attinto abbondantemente nei resti dell'antibio comunale dopo di ciò ulteriormente disperso fanno parte di quelle storie di cancellazione della memoria tipiche del nostro paese non esiste una documentazione istituzionale fotografica oggi ci troviamo di fronte a problemi falsi problemi come quello della riapertura di una porta della cinta medievale non si ha nessuna fotografia documentale di quando quella porta è stata interrata noi stiamo vivendo con il terremoto una fase convulsa di demolizioni non previste ma abbandonate all'iniziativa degli amministratori dei condomini e dell'interesse dei privati che preferiscono demolire perché così possono vendere la loro casa e andarsene da un'altra parte questa è la ricostruzione dell'Aquila senza piani e senza un governo questa è una responsabilità notevolissima e le cose non miglioreranno sicuramente cosa serve e perché io ritengo che questa attività sia importantissima per la ricostruzione della città serve una capacità di trasfigurazione del reale quell'incapacità di immaginare il proprio futuro può trovare degli appigli formidabili nella capacità dei fotografi di trasfigurare la realtà di conferire senso alla realtà voi percorrerete il territorio intorno alla città che ha perso completamente di senso voi siete chiamati a riconferire senso a questo territorio e non è un'operazione arbitrale persone che vengono da fuori e danno senso alle cose ma è un'operazione progettuale importantissima più importante di quella che possono fare gli urbanisti che dovrebbero essere quelli chiamati a questo ruolo e che sono stati tenuti fuori in maniera vergognosa dalla ricostruzione della città io sono dirigente del distrittuto nazionale di urbanisti sono stato vicepresidenza del territorio generale quindi quando c'è stato il terremoto ho cercato di coinvolgere gli urbanisti italiani e con essi l'associazione nazionale centri storici che hanno fondato in un laboratorio Laura che ha lavorato moltissimo il libro che avete nel link di confotografica è parte del notevolissimo lavoro prodotto l'amministrazione comunale il commissario il direttore della struttura che si è occupata della ricostruzione hanno ignorato sistematicamente tutto ciò io non faccio una rivendicazione sindacale perché vi ho detto che ritengo la disciplina abbastanza impreparata rispetto a questo problema però si è preferito procedere senza piani senza idee caso per caso discutendo ogni volta se porta barete va riaperta o no e se invece li porta barete magari ci facciamo anche qualche altra cosetta insieme trasfigurazione conferimento di senso ma stratificazione la città questa città in particolare che ha avuto numerosissimi eventi sismici è fatta di stratificazione la stratificazione è il raccordo tra il passato e il futuro è il come l'architettura che è altra cosa da turbanistica che qui non è stata ancora chiamata in gioco produce e modifica il paesaggio urbano è fatto di costanti rimandi quella città che vedete oggi è memore consapevole della città della città del 300 distrutta da un terremoto di quella del 500 di quella del 700 ci sono cose che sono così perché sono sopravvissute e ricordano quello che c'era su quella piazza interpretare la stratificazione attraverso la fotografia è un'altra cosa importantissima l'altra questione il terremoto è una decostruzione finisce quella razionalità simpatetica che è quella che dà ruolo alla bellezza perché comprensibile noi perché amiamo il paesaggio a Toscana perché capiamo come esso si è fatto perché capiamo la città merivale perché riusciamo a capire come si è composta in qualche modo interpretiamo la stratificazione il terremoto ha eliminato tutto ciò quindi noi viviamo in un momento di decostruzione e quindi qual è la bellezza non più quella di tipo simpatetico alla quale deve mirare la nostra azione progettuale non avendo capacità di pensare da parte di molti si dice dove era e come era perché così non si corrono rischi ti piaceva prima ti deve piacere dopo l'aspetto molto positivo di questa impresa che con fotografia ha portato ad acqua è anche quella di partire dal terreno qui io ho bisogno di un po' di tempo ma perché ritengo che questo tipo di comunicazione vi possa essere molto utile quindi vi prego la proposta di metodo per fare la fotografia è chiara condivisibile il fotografo tra cittadini e il terreno io ho dei miei personali sul ruolo che possono avere le cosiddette guide ma spero non ne può dover partiamo da una delle costruzioni principali che è avvenuta ma non solo per colpa del terreno e sono le numerose storie interrotte del paesaggio tra queste questo non è avvenuto soltanto nel centro ma è avvenuto soprattutto nel terreno in termini estremamente sintetici le storie del territorio partono da i fenomeni di accentramento e di incastellamento tra il 1100 e il 1300 questo primo accentramento subisce con la fondazione della città un ulteriore accentramento sottolineato dall'infeudazione dei centri minori dopo il 1529 a mio avviso si tratta dei quartieri io propongo questa avventura quindi nell'andare nell'uscire ad indagare il territorio vi propongo due riflessioni la prima è che tutti questi centri di cui avete visto qualcosa e vedete nei prossimi giorni vivevano e vivono in parte tuttora in una relazione che è normata da quella che io definisco la sezione di valle il centro che è lungo la viabilità perimetrale della conca prima viveva nei rapporti con il bosco e il pascolo che confinano con i centri e le grandi zone pericole della valle questa è la sezione di valle questi percorsi che erano strutturati sul percorso al ragno e le aie all'uscita del paese sono stati sconvolti completamente dalla viabilità moderna e dalla motorizzazione per cui sono questi sfilacciamenti lungo le strade sulle quali si sono poi introdotti i progetti case i map i supermercati e via dicendo realizzando un continuum che non è città non è paese non è nulla è una forma posturbana alla quale bisogna riconferire senso un'ipotesi del riconferimento di senso è di adottare per questi nuclei per tutto questo sistema di forme posturbane adottare una rilettura della sezione di bar come cellula a base di un puzzle che noi non sappiamo che forma avrà nessun urbanista oggi è in grado di dirvi quale sarà la forma urbana della fiducia perché dovrebbe introdurre degli elementi prescrittivi e regolativi ma soprattutto di carattere autoritativo difficilmente gestibili oggi come oggi e allora qual è la soluzione? la soluzione è di individuare nuovi temi collettivi mi riferisco a Marco Romano non capirci ma non temi collettivi tipo cattedrale tipo stadio tipo supermercato ma andarle a trovare nei parchi agricoli nei parchi fluviali nella rete ecologica e far diventare questo è il tema collettivo fondamentale in una rilettura della grande armatura urbana possibilmente poco inquinante eliminando il traffico automobilistico e affidandolo alla struttura esistente del tram la ferronia consiglio e questo concludo consiglio su come approcciare il terreno territorio da un punto di vista disciplinare le analisi più importanti sull'approccio al territorio sono quelle di muratori Canigia Maffei che dicono una cosa elementare i percorsi di scoperta di esplorazione del territorio sono sempre percorsi di crinale quando il territorio è conquistato e pacificato ci sono i percorsi di pianura nella fase intermedia i percorsi di mezza costa questa è una modalità che vi consiglierei i percorsi di crinale vi riescono a far capire molto di come è strutturato il territorio e di come siete costruiti la seconda questione sempre di questo dire cercate di capire su che percorso state se è un percorso di attraversamento se è un percorso di penetrazione se è un percorso circolatore o un distributore locale capisco di aver introdotto elementi tecnici ma sono cose abbastanza semplici c'è una gradualità dei percorsi perché i reali di accesso alla città sono alberati perché sono i percorsi di penetrazione chiunque di noi entra a Parigi e circola a Parigi con più reali alberati io ho accennato ora gli aspetti positivi di questo discorso avete capito che naturalmente non sono molto d'accordo su impostazioni di tipo che pretendono di sovrapporre una cultura della città a questa società liquida e dell'incertezza io penso che ne vengano fuori dei grossi castigli non sono d'accordo quindi con una visione sanitaria e di cultura alta non sono d'accordo con le posizioni di settistra montanare ma a fronte di un'insufficienza delle discipline e della disciplina urbanistica in particolare quale può essere un sistema alternativo io ritengo che un modello e qui vi chiamo a collaborare possa essere un po' quello della stanza della conoscenza perché voi producete conoscenza la stanza della conoscenza è quella che è un autore di cui ora ha scritto un bellissimo libro il titolo è proprio questo la stanza della conoscenza che asserisce due cose abbastanza importanti che è finita l'epoca dei consulenti e degli esperti le decisioni maturano dentro una stanza della conoscenza in cui tutti interagiscono io ritengo che l'impianto immaginifico fotografico che voi potete introdurre in questa operazione della ricostruzione debba avere questo ruolo è una stanza della conoscenza vicissima in cui tutti entrano e tutti interagiscono da qui viene fuori il progetto e io mi auguro che questa è una grande fortuna che la città una città senza piano una città senza governo del territorio questa è un'enorme fortuna spero che la sappia voglia grazie passo la parola all'archivetto Marco Morante il collettivo 99 una relazione dell'articolo su tutti i passati ciao a tutti cercherò di andare velocemente prima un brevissimo aiuto alla lettura non ho slide non perché non ne abbia peraltro noi ci siamo serviti fin da subito come collettivo 99 di serpiti perché ricorrente di quello che ricordiamo per la visione fotografia che è attorno a liceo questo parte della collettiva 99 che è la documentazione di questa e quindi consideriamo la filosofia fondamentale crediamo però che in questo caso a noi tenuto di portare questa comunicazione potesse essere il caso non condizionare con il vostro linguaggio quella comunicazione ma attendere da voi quello che è un risultato un ulteriore risultato rispetto a quello sulla base del quale abbiamo già lavorato nella consapevolezza e purché ci sia una condivisione che sia la nostra di ragionatori diciamo di scienze urbane che la nostra di produttori di conoscenza svolgiamo un'attività militante e di utilità sociale spesso reciproca ma molto spesso che vanno in una direzione cioè producete delle informazioni che poi non dovremmo utilizzare so che su questa cosa qui non tutti sono d'accordo ci siamo anche confrontati veramente con la nostra però questo qui è il mio punto di visita io ho sete di informazioni per poter prendere delle decisioni quando vengo chiamato a prendere queste decisioni e quindi mi limiterò non vi dirò qual è la mia soluzione io ho una soluzione al grande problema dell'articolo perché probabilmente c'è la professore Properzi eccetera ma non vi parlerò di quella è una soluzione basata sul paradigma reticolare che a voi non condizionerete il vostro ragionamento mi limiterò a illustrarvi dove eravamo dove siamo sempre secondo il nostro punto di vista ecco appunto la capacità di interpretare possiamo ovviamente sbagliare dove andiamo dove vorremmo andare e quanto abbiamo bisogno della fotografia e quindi proverò a dirvi anche dove andare a cercare qualcuno di voi ci conosce avrà visto il link del sito siamo stati come molti altri ma dal punto di vista diciamo dei tecnici rompiscatole a chi per usare un termine antipatico utilizzato in questi giorni ha inteso e noi sapevamo che avrebbe inteso asfaltarci e ci hanno asfaltato in tutti i sensi però ci siamo spostati un attimo prima che non arrivasse quantomeno siamo dei reduci che possono in qualche modo o come diceva prima immagina incerti ma ci siamo incazzati noi come diceva prima Matichetti per la prossima volta ma auspicheremo che possa esserci utile per surfare le circostanze di questo post-sisma si diceva si diceva perché più i passati prima è stato grande interesse ovviamente l'intervento del progetto case e è evidente che voi non possiate conoscere tutto quello che è successo con la trastazione e le disfunzioni mediatiche che abbiamo in questo paese però per capirci è anche importante sapere dove eravamo eravamo in una città che si era in qualche modo corrotta con una periferia degli anni 70-80 60-70-80 ma che aveva mantenuto la sua qualità di città straordinaria frutto di un sinecismo che è quello che ti ha raccontato il professore quindi non ci torno e in cui questo territorio questo insegnamento multicentrico diciamo che è diverso da multicentrico ma comunque riusciva ancora a restituire una qualità di la vita che era basata non sulla macchina che puoi scendere ma in molti casi proprio sull'andare a piedi essere uscire da casa prendere la bicicletta e essere su delle montagne fantastiche e vivere casa lavoro spesso anche soltanto a piedi quindi una città che era in declino dal punto di vista politico aveva mantenuto grazie alla sua forma forma urbana forma urbana che aveva dietro un'idea un pensiero forma urbana frutto di un pensiero nel 1254 anno più anno meno era riuscita a mantenere le sue qualità e a fare sì che una persona come me autobiograficamente una persona come me che comunque era stato nella pianura e poi vi dirò perché voglio utilizzare questo termine scegliesse pur avendo appunto avuto opportunità di conoscenza di tornare di tornare in una città come questa con tutti i problemi che aveva prima di terremoto era questa qualità che ora è stata devastata non dal terremoto ma delle scelte senza pensiero e senza forma del post terremoto e questo per chi volesse prendere appunto in questo intervento se prendere questo appunto ha già capito tutto questo è il passaggio di Ava quindi chi vuole va a continuare ad ascoltare può farlo ma il punto è questo chi è che riesce a capire che cosa significa forma urbana e riesce appunto ad avere uno sguardo sul territorio avendo questo assillo ha già capito tutto di quello che probabilmente è il segno che in molti casi da fotografo non ho capito perché non sono non ho le vostre capacità di osservazione quindi il progetto case che al diare il fatto che ci piova dentro hanno modificato la forma urbana l'assetto urbano ma il problema è che era stato detto ecco perché i futuri passati avevamo l'opportunità di migliorare questa città e l'abbiamo peggiorata andando a delocalizzare i nuovi centri rapidi a centri tra virgolette che hanno fatto sì che quella che era la città diventasse una città per cui se non hai la macchina sei morto e sei davvero morto senza considerare come sono stati localizzati senza considerare quello che è la non organizzazione di questi centri vado veloce su questo oggi appunto il professor Proversio ce la legge con il suo intervento sulla richiesta di un piano si è chiesto fin da subito in massa fa poco abbiamo cercato di bloccare il progetto case si parla del 4 maggio 2009 in consiglio comunale quando Bertolaso lo presentava alla comunità e eravamo una decina di persone tra cui alcuni presenti e c'erano altre persone tra cui questo è un po' che dicevano che questa cosa non andava fatta Bertolaso si alzò andò via asfaltati è importante sapere perché alcune cose sono avvenute come diceva Piero è importante sapere come chi l'ha decise non l'abbiamo decise noi come cittadinanza l'abbiamo decise poche persone nell'amministrazione e tante persone di fuori della pianura adesso ci arriverò a questo discorso per capire dove siamo anche storicamente in che modello anche parlando di geografia la cui cerco di attingere quando posso quindi la denuclearizzazione la mancata di conversione noi siamo quelli i rompiscate gli ingegni che hanno proposto di cambiare il mondo partendo dall'Aquila tanto più che c'è stato un G8 e si ritrovano a cercare di surfare qualche circostanza per non spararsi e poi il problema è la partecipazione ho letto che ci sarà Saravegni a relazionare quindi ma comunque è evidente il grandissimo problema è il fatto che qui non sono state prese scelte dal territorio ma è stata e quindi arrivo alla prima citazione di un bellissimo libro di Franco Farinelli che è un geografo geografia e introduzione ai modelli del mondo che ho riletto recentemente che secondo me è molto calzante per cercare di aiutare dare un consiglio su dove cercare dove cercare quando ha fatto la Fata di Arbina e questa la prima il primo po' di considerazioni è quello che cerca di spiegare perché questo è avvenuto perché questo è avvenuto leggevo l'attore di Riela Valtisusa ho riletto il libro su Vajronza sentendo con Ressanna che l'avevo consigliato questo qui è un problema è il problema di chi decide è dell'opposizione che c'è nell'occhio occidentale dobbiamo farci una ragione dobbiamo capire in che cura siamo perché qua si parla di guerra e questo qua io l'ho detto in più in caso è una guerra culturale di chi porta delle esigenze e chi le subisce l'esigenza è evidente perché soltanto il bambino potrebbe non vedere quali sono state le ragioni di quel progetto caso scusate siamo andati a finire anche il titacarone delle interviste che vanno a zero e la domanda era quindi volevate contendere la domanda era quella quindi volevate contendere noi volevamo dei moduli abitativi provvisori provvisori reterzibili che non modificassero definitivamente la forma urbis che ci aveva permesso di sopravvivere fino ad oggi e questo l'ho detto fino ad oggi questo è il moduli abitativi provvisori esistono 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 e in un'altra ci vanno gli studentati quindi esistono esistono però c'era da fare delle erotizzazioni questo si è detto chi non l'ha capito vada a cerchi ma si è detto in molti modi anche con interventi sull'organizzazione cioè vuoi fare proprio quello almeno vicino a questo l'ho detto Antonio Cincozzi insomma però la cultura occidentale ha fatto sì che ci fosse uno scontro vediamo uno scontro tra pianura e montagna i romani tant'è che i romani avevano l'Alger e il Saltus e invece avevano l'Oros che definiva montagna e limite e questa è una condizione fondamentale da capire per chi vive qui e per chi ha sempre in qualche modo subito tranne la locazione tant'è che ha sempre subito il predominio della pianura la montagna tranne che con la trasformanza orizzontale in cui l'Alger è stata regina quindi che succede c'è una serie considerazione di geografia generale che si appena perfettamente all'Alger e è bene capire questa perché la situazione dell'Alger per voi che venite là fuori insomma per cercare di leggere è la stessa situazione che si vive oggi in Val di Susa e che si è vissuto in Maiotto nasce da quelle scelte da quel modello di concezione del mondo in cui la pianura va a decidere salvo l'area occasioni come dicevo la trasformanza va a decidere le sorti della montagna per esigenze proprie secondo me è importante capirlo per capire dove si è e contro chi è da parte di chi e questo secondo me è fondamentale perché con fotografia ma non per alcun aspetto dovrebbe essere anche una contro fotografia e questo insomma voglio dire anche il progetto casa visto secondo noi con questo occhio il progetto casa ed altre scelte e poi il secondo blocco è quello velocissimo il secondo blocco è che riguarda proprio noi come urbanisti la crisi della cultura occidentale visione era uguale a conoscenza questo sempre tratto da Farinetti visione era uguale a conoscenza questo non è più vero che è un passaggio che è avvenuto dall'inizio 800 ad oggi che si è riconsumato all'Aquila come all'Aquila si è riconsumato quello che è avvenuto lungo la fascia triatica a Las Vegas o anche nelle zone dello sprawl della città diffusa italiana all'Aquila che era rimasta immune da questo processo si è riconsumato in questi 3-4 anni l'Aquila non era una città continua e quindi 3 punti in questo blocco tra il funzionamento del mondo e quel che è visibile vi è sufficiente corrispondenza questo avveniva all'epoca della prima fino e anche all'epoca della prima rivoluzione industriale Farinelli lo ricollega Humboldt il periodo di Humboldt del geografo viaggiatore eccetera l'osservatore della prima rivoluzione industriale nota vedendo delle cose di anno in anno osservando lo stesso fotogramma una crescita continua quindi secondo le categorie no è un più deve continua un genere isotropa e questo secondo noi secondo me questa cosa secondo me questo era vero era vero all'Aquila prima del sisma per una parte della sua città il centro storico e le immediate vicinanze erano ancora visibili con questa con questa corrispondenza diretta tra il visibile e il funzionamento del mondo perché il funzionamento del mondo era legato allo spostamento fisico semplicemente non era una questione legata a decisioni di altra natura dove la localizzazione è legata a come vedremo nella seconda fase a non so la linea elettrica che poteva rendere molto lontano oppure decisioni di carattere cibermetico o di queste altre considerazioni era fisico la fisicità quindi io vedo un'immagine e riesco a capirne tutte le conseguenze e le commissioni tra il funzionamento vado al secondo mondo e lo secondo scatto tra il funzionamento del mondo e quel che è visibile si perde ogni possibile sistemare corrispondenza e questa è la visione che si ha dall'inizio recente con la seconda rivoluzione industriale dove vicinanza o lontananza tra le cose non significa più nulla cioè c'è una questione legata fortemente a altre tecnologie che sono ad esempio l'elettrificazione e cose di questo genere e a parte di prima parte dell'Api di prima del sisma come le periferie quasi finito erano in qualche modo riconoscibili a questo non erano ancora riusciti arrivati a una città diffusa si arriva al terzo punto che in altre città come dire si era già verificato perché all'Api si è verificato con il post-sisma non con il sisma le scelte del post-sisma il dominio della visione non restituisce quasi più nulla circa meccanismi di rivoluzione del mondo stesso un assorbatore contemporaneo non può riferirsi quasi a nessun inizio a nessuna traccia materiale per tipicare l'interdipendenza tra le cose e questa è la città contemporanea che è la realtà di molti luoghi da cui voi venite probabilmente ripeto penso alla fascia degli ari penso alla città diffusa che è quasi ovunque ormai ma che all'Aguia non c'era che si è prodotta con il sisma e allora all'Aguia adesso è fuori Zalaro tutto tutto il territorio ormai più o meno rientra in questa accezione in questa situazione e quindi il consiglio il consiglio è che ciò è stato prodotto in quest'ultima fase dalla miniaturizzazione delle cause e anche dal fatto che queste cause siano proprio enormemente altrove ma non alla distanza dell'entrodotto ma alla distanza proprio delle decisioni che avvengono secondo altri morandri e miniaturizzazione legata alla cibernetica e alle tecnologie che ben conosciamo e allora un invito che faccio con una provocazione è un invito ad osservare la miniaturizzazione delle cose e quindi mi ricollevo prima di qui a me quella foto non dà fastidio perché almeno non ho capito perché ho cercato per capire questo territorio per capire i territori come questo di andare a cercare le piccole cose per poi poi dopo soltanto dopo dopo tanti piccoli sguardi di dettaglio provare ovviamente a ricostruire un senso generale ma non credo assolutamente in questo non sono accorto con Piero che andando sul clinale si possa riuscire a capire questo territorio applausi applausi Ieri ero all'università, ero arrivato all'Aquila e sentivo una fortissima nostalgia della città, cioè dicevo, beh, siamo qui, era una bella situazione, però era un edificio, poteva essere il Canada, non ero arrivato all'Aquila, avevo bisogno di vedere, per me oggi anche quei ferro, quei dubbi, avevo un fortissimo bisogno di vedere questa cosa e stamattina, prima di stare qui, ho visto questa cosa. Quindi al di là di tutte le parole che ci stiamo dicendo, è straordinario il fatto che voi andrete a vedere per più giorni questo luogo, è straordinario, a grado dell'uso che ne faranno un po' di cultura, è straordinario, quindi complimenti anche a tutti, è straordinario per la vostra vita, prima ancora che per quello che accadrà all'Aquila, che poi a un certo punto a voi potrebbe essere interessante, perché sono solo l'Aquila al mondo. L'Aquila in questo momento, secondo me, parlo di mie sensazioni, è il luogo più interessante che c'è nel mondo per un fotografo, ma forse anche per un essere umano, cioè io non riesco a immaginare un altro luogo più straordinario, un luogo di opportunità visile incredibile, perché hai tutta la bellezza, la più bella città del mondo, e hai nella stessa città l'orredo, le rovine, quindi tutta la bellezza classica, la rumore delle chiese, e tutta questa bellezza nuova che è venuta nel Novecento, che è anche la bellezza delle periferie, dell'ampione arrugginito, della porta chiusa, addirittura appunto la bellezza di queste costruzioni che cingolano le case, quindi è una cosa veramente prodigiosa, ed è un paesaggio provvisorio, qualunque cosa accade, questo paesaggio tra 40 anni non sarà più così, è un paesaggio in trasformazione, in un mondo che si dice sempre in trasformazione, questa è una città veramente in trasformazione, io sono stato qui l'anno scorso, ho visto un'altra cosa, se verrò fra un anno vedrò un altro paesaggio. E quindi l'idea, ne abbiamo parlato poco oggi, l'idea di portare i fotografi che portano lo sguardo da lontano, lo sguardo della distanza, farli accompagnare da persone che hanno l'infiammazione della residenza, cioè persone che vivono ogni giorno all'Aquila, questa è una cosa fondamentale non per la fotografia, per la politica, per fare buone politiche su un territorio, secondo me, ci vuole questo doppio sguardo di intimità e di distanza, detto altrimenti, la ricostruzione non la può fare il sindaco, quindi chi ha l'infiammazione della residenza, non la può fare il buroga per Roma, cioè chi ha solamente la distanza, ma si fa appunto incrociando questi due sguardi. Quindi questa operazione è evidentemente culturale, in realtà indica anche un modello di gestione politica con il territorio, che vale per tutta l'Italia, ma vale ancora più per l'Aquila. Quindi io sono proprio, se avessi saputo, mi sarei proposto come fotografo con lei, perché mi sembra proprio cruciale questa cosa, non solo per l'Aquila, ma dovunque dovremmo andare nei posti, qualcuno da fuori e qualcuno che sta lì e guardare. Poi io sostengo che oggi un problema dell'Italia è che c'è il primato dell'opinione sul primato della percezione. Esistono gli opinionisti e i percettivi, per fortuna i fotografi, quasi tutti, non sono opinionisti, ma sono percettivi. Quindi è uno straordinario esercizio di percezione che andrete a fare in questi giorni, che probabilmente sarà ignorato dagli opinionisti che governano all'euro locale o a livello nazionale, però l'assessorio mi auguro che questo lavoro venga considerato, perché noi facciamo brutte leggi, facciamo brutte trasformazioni perché non guardiamo, abbiamo guardato che cosa, e diciamo delle cose, ah l'Aquila è così, andiamola a vedere, ed era così ieri mattina, già stamattina c'è un'altra cosa, quindi andiamola a vedere, questa è la cosa. E poi un'altra faccenda su cui la città è morta, stiamo attenti. L'Aquila è una delle città più vive del mondo, noi diciamo morta, un luogo, quando se ne vanno gli uomini, perché abbiamo questa visione appunto in cui l'uomo è il centro delle cose. L'uomo è una, in questo momento, non so se sono arrivate le faine, al mio paese quando nel centro storico è arrivato le faine, non è che è morto, perché appunto abitavano le soffitte, diciamo, sono tornati gli uomini, e le fai i fissi compazze. Quando c'è quella grande nevicata, due anni fa, tutti si preoccupavano, dicono, ah ma io non posso uscire con la macchina, andare dal garage, andare da prendere a 50 metri di sigarette, e nessuno si preoccupava, per esempio delle volpi, che sotto questa grande nevicata non si capiva bene, infatti sono quasi tutte morte, perché non sapevano che fare. Quindi insomma, l'Aquila è un luogo commovente, cioè io sono stato stamattina per mezz'ora, io se fosse vicino, il pulmano ogni mattina, diciamo che tu sei un necrofico, una persona personale, però, tanto rispetto ovviamente per chi ha perso la vita e tutto quanto, però, signore, il fascio, cioè l'emozione che mi dà l'Aquila, dici qualcosa anche degli altri posti, dici che Milano è un luogo morto, o Roma o qualcosa, cioè in realtà la vita, l'emozione che mi dà la porta rotta, il palazzo con le crepe, il palazzo sfasciato, il palazzo Milano, ti fa sentire invece quanta morte c'è nei luoghi che funzionano, nei luoghi non terremotanti, quanta morte c'è nella modernità, nell'efficienza e allargando il discorso, potremmo dire anche, nel logos, nel piano, nell'intelligenza con cui gli uomini pensano di dominare il mondo, che poi appunto arriva nascossa e vi mette in gioco tutto, quindi questo è un crede per pensare alla città, alla nostra vita, con un po' di umilità, con uno sguardo più rasoterro, andando a vedere che cosa succede, andando ad accarezzare questi anziani, questi, andando a, e producendo, dicevo ieri, esercizi di ammirazione, non chiudersi né nell'utopia né nello sconforto, ma guardare, incrociare, individuare distanza, incrociare scrupolo e utopia. L'Aquila ha bisogno di essere ricostruita, ma ha bisogno anche di essere sognata, ci sono le esigenze della persona terremotata che vuole un tetto sicuro, ma c'è anche l'esigenza di avere una città appunto che sia concepita secondo, per esempio, che abbia le stalle dentro, una città che abbia le pecore dentro, cioè io all'Aquila riporterei le pecore, le vacche, cioè la farei capitale del futuro, cioè capitale della città di campagna, città in cui si può bere il latte appena avuto, in cui si può vedere la vacca, no? che ti dà il latte alla mattina, ecco, quindi, e questo è un compito non solo per sindaci o per urbanisti o per politicanti, è un compito per tutti, per fotografi, per poeti, per paesologi, per urbanisti, per tabaccai, per salomieri, è la questione, la grande questione della democrazia locale, che è l'unica democrazia ancora forse potabile, accessibile, si capisce che cos'è, perché la democrazia planetaria si capisce, quella locale si capisce, cioè tu dici una cosa, non dici un'altra, tac, 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 alla fine, insomma, anche ma, e questo ovviamente è faticoso, dobbiamo spendere un po' di tempo per l'Aquila, o soprattutto chi sta all'Aquila, non è che si può fare una città, la fa Bertolato, la fa Barca, la fa un'altra, è una cosa faticosa fare le cose, come è faticoso stare al mondo, e quindi questa esperienza che voi andate a fare in questi giorni, è strepitosa, cioè quando ve ne andrete dall'Aquila, insomma, vi avete problemi di, perché c'è, sì, perché c'è una ricchezza, altro che lo comodo, e anche quello che, per chi sa tutti i giorni è molto faticoso, gli spostamenti, il caos, per chi ci arriva, il silenzio, se tu, il chi lo vive ogni giorno, è doloroso, chi lo vive ogni tanto, se uno va in un paese dell'appenino, abbandonato, ha un silenzio meraviglioso, questo disordine che c'è all'Aquila, è chiaro che chi conosceva la città intera, è straziante questo posto adesso, però voi che portate il vostro occhio da fuori, siete davanti a un tesoro, a un tesoro inestimabile, e tutta l'Italia dovrebbe essere fotografata, tutta l'Italia non è quella che dicono a Roma o a Milano che dicono in televisione, questo è il problema, perché l'Italia ci cambia sotto gli occhi, probabilmente siamo in un'epoca in cui la, dalla mattina alla sera le cose, pensate alla rete, se tu metti un post su Facebook alle 8 del mattino, quando lo vai a guardare la sera, a me se riesci a guardarlo alle 8 di sera, sembra passare un secolo, e allora questa questione del tempo la vogliamo capire, vogliamo capire che, e quindi ecco perché è straordinario, ecco che la fotografia in un tempo che non è più il tempo dello spazio, ma è il tempo dello spazio, è ancora la geografia, l'importanza della geografia, e quindi l'importante è tutte queste discipline appunto che guardano il mondo, che mettono al centro lo sguardo, il vedere, il sentire, l'abbassarsi, guardare i dettagli, voi avete una marea di dettagli, dalla bottiglia d'acqua minerale, dalla cartigine che magari c'è ancora, sono cose straordinarie, e questa cartigine che fa 3 anni non ci sarà più, magari qualcuno, non so se è rimasto ancora qualche cappotto a peso da qualche parte, e questo cappotto magari ci sarà una scatola di cerini, sono cose meravigliose, e potrebbe avere un apparecchio, una macchina fotografica che cattura queste cose, che fra una settimana quel palazzo sarà demolito, quella grepa sarà chiusa, e voi avete questa, è una sorta di arca di noentia, che voi potete portare, potete salvare un luogo che comunque si sta trasformando, quindi è un compito, e spero che ci sarà un oggetto fisico, un sito, un libro che raccoglierà questa esperienza. Anzi, io vorrei fare una proposta all'assessore, di questo, sarebbe bello che l'Aquila ci fosse un pezzo esattamente uguale a quello che era la serpita del terremoto, sarebbe bello che ci fosse un pezzo in cui quello che c'è adesso rimanesse così, con una strada con dell'altra, lasciarla così, per dire questo, per innivelmente l'Aquila in cui l'Aquila sono perfissate? Eh? Ma non per city? Ci resteranno per city... Non deve essere un impegno? No, no, deve essere un impegno... Per il progetto, per il disegno, un pezzo di città, tue efficace, e un pezzo, io direi quasi un ilico, un pezzo di cui appunto l'Aquila diventa un luogo del mondo in cui si dipende completamente l'idea di città e quindi il comodo è straordinario è una fortuna oggi di venire all'Aquila secondo me perché è un luogo colossale è un luogo in cui si può lottare a Cesena, che fai? ci sono tutti i colori già fatti si vede la mano cioè qui ti sveglia la mano e ti dici ma come hai aperto la porta sul muro? cioè puoi intervenire, puoi andare alla pastistoria ma anche per esempio l'estetica delle rovinie oggi c'è una chiesa bellissima rovinata, una piazza e c'era un frigorifero là sotto la piazza è tolta ma come se arrivasse uno all'anno e poi la piazza quel frigorifero va tolto perché c'è una non dico un uso turistico ma c'è proprio una una forza in quel momento come è adesso quella piazza con le montagne dello sfondo con quei colori c'era una chiesa che aveva non si capisce se era un musco o che cosa era ci sono tutte cose prodigiose cioè in questo spazio scombinato in questo spazio rotto abitano una serie di creature estetiche incredibile incredibile provvisorio per cui anche i sindaci o chi si oppone ad esse scendo un molto cioè gli aguilari come tutti i terremotati io sono un terremotato in Spino c'è un gran borbottio un gran parlare pur lui tutto il terremoto la costruzione facciamo così a fine abbiamo fatto una fruttata perché non guardavamo bisogna essere un po' più percettivi all'acqua dovete capire che state nella città uscite ogni giorno vedete non vi chiedete questo dovete fare basta dovete fare questa cosa qua col vicino ma come sta cosa cioè proprio stare sul filo d'erba stare sulla singola fontana sulla singola porta sulla singola chiave che non ha che non c'è più sulla singola finestra ed è una meraviglia vivere in un posto che dà questa possibilità e nel tempo libero voi dovete dedicarvi all'acqua chi fa il costino chi fa il sindaco deve comunque dedicarsi a questa cosa perché è meraviglioso stare in un posto in cui ogni angolo racconta è un disastro ma è anche una meraviglia perché quella porta si chiude perché si restava quella casa perché si abbatte perché non si abbatte e che succede quando appunto mettiamo il parcheggio qui lo mettiamo lì e il centro commerciale ma chi l'ha detto vogliamo volontari che vogliamo fare le scuole cioè è una meraviglia di cose da vedere e quindi la cosa che ti consiglio ho finito scegliere questo luogo proprio qui che a me sembra bellissimo tra l'altro scegliere questo luogo per diventare tutti ambulanti del futuro per creare una scuola di percezioni percettivi insegniamo ai ragazzi di l'acqua a guardare l'acqua ogni giorno veniamo qua e raccontiamoci quello che abbiamo visto da questo racconto di quello che abbiamo visto forse viene voluto qualche suggestione per la politica senza però appunto ragionare con la nostra testa ragioniamo di un poco di più con il nostro cuore e con i nostri occhi grazie 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 grazie